Corre lungo la schiena, perché, perché avverto che questa non sia la prima volta? 3, 2, 1, si. 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 3, 2, si. 3, 2, 1, si. 3, 2, 1, si. 3, 2, 1, si. 3, 2, 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 si. se non sbaglio Oseiros è il suo nome, nonché re di Lotric, assolutamente, e Oseiros è un drago, è un drago molto molto Sithiano a livello proprio estetico, quindi è possibile che sia un discendente, tant'è vero che avevamo già visto una donna su una torre avere delle sembianze appunto simili a quelle di Sith, e a questo punto possiamo capire il perché il marito di Guinevere è un drago, o comunque un mezzo drago, un uomo trasformato in drago, non esattamente, ecco lo definirei drago per via anche proprio del modo in cui è fisicamente formato, non sembra un drago antico né tantomeno alle dimensioni di Sith, però è antropomorfo. Eh sì esatto, è molto antropomorfo, bravissimo. Capito, quindi secondo me piuttosto possiamo parlare di un uomo che ha preso le sembianze di Sith o di una discendenza di Velka e Sith che è riuscita però a mantenere più le sembianze draconiche che quelle probabilmente appunto umane, perché Priscilla potremmo dire che è più umana che drago, e invece anche questa donna che abbiamo trovato sulla torre, quella del ponte invisibile ti ricordi? Anche quella era molto più umana che draconica, mentre Oseiros sembra molto più drago che uomo. Però lì ovviamente dovremo poi studiare se sarà possibile una linea di discendenza per comprendere perché lui sia fatto così. Detto questo, vediamo che ha un bambino in mano, anche se è stato censurato nel nuovo gioco, cioè nel gioco poi commercializzato. In questo caso tu sai come e cosa è accaduto, per fortuna poi hanno cercato di ricontestualizzare il fatto che lui sia impazzito e non lo percepisca. Però comunque sì, c'è e non c'è, ma esiste, cioè invisibile o non invisibile c'è. Esattamente, esattamente. E quindi questo bambino viene definito come tutto ciò che è rimasto a questo re, ormai caduto, che sembra aver perso tutte le speranze riguardo forse il futuro di questo mondo e del mondo attaccato alla fiamma. L'introduzione che fa al giocatore, ad F nel mio caso, all'ingresso nella stanza è... Hai capito finalmente? Che è tutto inutile. E dopodiché, in questo atto di estrema disperazione e follia, purtroppo il re ammazza il suo bambino, lo schianta al suolo e ne assorbe forse anche il potere. Perché entra in fase 2, quindi ci viene raccontato attraverso la boss fight, credo, attraverso le meccaniche di gioco, che in realtà il re quasi mangi il suo bambino, spaccandolo a terra e assorbendone appunto la forza. Comincia a divenire anche più bestiale, un po' più simile anche nelle movenze ai cavalieri di Sullivan, anche se ovviamente non c'entra nulla. Però, ecco, le movenze sono quelle. Mi è sembrato in realtà molto simile alle lucertolone, quelle fatte di cristalli. Quella è stata un po' la somiglianza più forte tra le boss fight. Si sembrano proprio le lucertolone di cristalli, o meglio, mi ha ricordato quelle. Detto qui, ovviamente non possiamo sapere se quelle lucertolone sono imparentate, in realtà tu me le contestualizzasti all'epoca come semplici lucertolone di Dark Souls 1 che sono cresciute e invecchiate e diventate particolarmente forti. Quindi, in teoria non ci dovrebbero essere collegamenti, esatto, a meno che non venga fuori che quelli sono altri figli di Guinevere e Oseiros, però, meno potenti o che hanno perso il senno. Non credo, però lo metto nel calderone. Detto questo, superiamo il re, lo uccidiamo, se non sbaglio dovrei averlo fatto di primo try, ma ormai sono dieci giorni, quindi non mi ricordo. Sì, Oseiros è stato first try. Ecco, first try. E... andando oltre è successo il panico, ed è il motivo della lunghezza di questa introduzione. Esatto, hai trovato una parete illusoria. Ho trovato una parete illusoria. Oltre la parete illusoria, però, ciò che ho visto ha completamente distrutto ogni forma di certezza che avevo riguardo la fisica e proprio la realtà spazio-temporale di Lothric del mondo di gioco di Dark Souls 3. Io ho ritrovato, oltre questa parete illusoria, la stessa area di inizio gioco, chiamata, se non sbaglio, Tombe Dimenticate. Tombe Dimenticate. Tombe Dimenticate. È la stessa area di inizio gioco, ma è tutta buia, marcita, completamente persa, non ci sono più i chierici, ma mostri molto più brutti e addirittura corvi. Corvidi che erano appollaiati attorno alla mia tomba e in quanto cantori mi piace pensare che cantassero di me, perché erano proprio davanti alla mia tomba, tomba nella quale si trovava il mio corpo, ma morto e non ovviamente in movimento, con tanto di anello donato da Gwynevere al, direi, campione dei campioni delle ceneri, che in teoria sono io. Questo ha completamente devastato il mio cervello, perché ho capito di essere nella stessa area di inizio gioco, ne ho avuto la conferma quando ho compreso che la conformazione dell'area era proprio identica, ed ecco perché ti parlo delle lucertolone di cristalli. La prima l'ho trovata proprio lì. Bravo. E quindi non posso non pensare che ci possa essere un collegamento con Oseros, perché è a 20 metri in linea d'aria. E ti aggiungo un dettaglio che, allora, in un contesto di libertà prolissa di contenuto ti avrei fatto fare in-game, però visto che ho un'idea che potrebbe allungare un po' la partita, ed è preferibile, te lo dico come chicca non attiva, passiva, te la spiego. Sì. Macchie di sangue, anime e oggetti lasciati nelle tombe dimenticate appaiono esattamente nello stesso punto al santuario. Ah, che bello. Ecco perché allora... Ricordo che a inizio gioco avevo trovato un sacco di roba in terra e dicevo ma come cazzo sono morti questi? Provate a rivedere la prima puntata, credo di aver fatto proprio questo commento. Ho visto tanta roba a terra e non ne ho compreso il perché, e se non sbaglio ho guardato in alto e ho detto forse ci arriviamo un giorno lì in quel punto, in realtà sì, però in un altro tempo. Quindi cerchiamo di decifrare insieme che cosa minchia è successo. Quello che dirò da qui in poi inevitabilmente sarà impreciso, ne sono consapevole e credo che verrà spiegato nel dettaglio tra poco o in futuro, prima della fine di Dark Souls 3, ne sono abbastanza convinto, non credo che Miyazaki lasci questa cosa all'interpretazione del giocatore, o almeno alla liberissima interpretazione del giocatore, magari qualcosa da interpretare ci sarà, ma comunque in un recinto ben delineato dall'autore. Quindi cerco, unendo la mia fantasia a quello che ho visto, di spiegarmi che cosa è successo. Come ho già provato a anticipare l'altra volta, ma il maestro mi ha vietato lo speculo più assoluto, quindi ho potuto solo toccare la superficie. L'idea è quella della creazione di un backup temporale di un determinato luogo. Quindi una cosa voluta. Sì, a me sembra una cosa voluta. A me sembra una cosa voluta per un motivo ben specifico, Firelink Shrine. Proviamo a ricostruire la storia per come la conosciamo. Sì. In teoria, prima ancora dei Lord of Cinder e della missione di F, era Prince Lothric a dover vincolare. Noi non sappiamo molto di questa storia, se non che probabilmente Vort e la danzatrice boreale sono passati dalla parte di Prince Lothric e oggi lo difendono da me. Ciononostante, sono anche piuttosto convinto, viste le parole dell'alta sacerdotessa di Lothric che Prince Lothric dovesse vincolare, che fosse in realtà potremmo dire il quarto Lord of Cinder dopo tutti gli altri che ho già preso, proprio a livello cronologico. Un tempo vincolò Aldrich e poi dopo Aldrich, ovviamente lasciate perdere l'ordine preciso, non lo posso sapere, però prima Aldrich, poi vincolò il guardiano degli abissi Franco, poi dopo di lui vincolò Iorm e poi tocca a Prince Lothric. Allora, continua, 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 continua. Perfetto. Ma Prince Lothric per qualche motivo difficile da comprendere e forse legato alla sua estrema debolezza, ovviamente c'è anche Ludleth, perdonatemi, non me l'avete scritto in chat ma ve lo dico io, ovviamente c'è anche Ludleth. Ecco è arrivato adesso Altidoro a seguito della mia affermazione, ovviamente c'è anche Ludleth. Dicevamo quindi, Prince Lothric forse per via della sua estrema debolezza, abbiamo scoperto che era cagionevole di salute, che non stava particolarmente bene, che è nato malato, non ha voluto vincolare, non è riuscito a vincolare, ma io credo proprio che non abbia voluto. Non credo che la storia di Prince Lothric sia quella di un fallimento, nel senso va a vincolare, ma non è abbastanza forte, diventa una cenere qualunque, io credo proprio che gli sia successo qualcosa, che abbia fermato a metà strada la sua missione, non so bene. Stiamo toccando, questa è un'introduzione che è densa di tue idee, di cercare una sorta di puzzle da ricomporre, quindi è contemporaneamente una delle meno poetiche, una delle più concrete, ma in questo pragmatismo ovviamente non sottovalutare nella quantità che sei pericolosamente in tanta densità di cose che stai dicendo, quindi non dare poca importanza agli argomenti singoli. Tu stai parlando di Lothric, è importantissimo cercare di intuire cosa sia successo, una cosa la sapevi molto bene dalle descrizioni, lui secondo la volontà del regno di Lothric, quindi ovviamente non la sua, da bambino, doveva vincolare, è nato. Malato, assolutamente. Non credo però che questa malattia lo abbia portato semplicemente a fallire il vincolo. No, infatti mi piace molto quello che stai dicendo. Altrimenti non mi spiegherei il trono, c'è un trono per lui, lui doveva vincolare. Esatto, il trono magari è... sì, bravo, ok, ok, vai, 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 vai. Però non è tra i Lord of Cinder citati in cutscene iniziale. No, non lo è. È come se fosse successo qualcosa, lui ha il potere di vincolare, chi ha costruito Firelink Shrine Backup 2.0 sa benissimo che Prince Lothric avrebbe in potenza la possibilità di vincolare, o non avrebbe senso il trono che è addirittura al centro, ma per qualche motivo lui è diventato un anti-Lord of Cinder, qualcosa di diverso, qualcosa di maledetto se non sbaglio, comunque... A meno che, allora sì, sì, a quanto pare è maledetto. Anima perduta, anima perduta. Esatto, sì, non si comprende bene se sta parlando del normale segno oscuro come tutti o se c'è qualcos'altro, ma ti ricordo una tua speculazione, una tua elucubrazione, perché potrebbe ricontestualizzare le cose in una forma diversa, sotto una luce diversa, è vero, ha un trono, è centrale, viene nominato come l'ultima speranza della famiglia reale del regno, del mondo, e tu dici, non ha senso, perché significa allora che comunque nonostante tutto, nonostante la malattia e le iniziali inefficacia, adesso a un certo punto è stato pensato ne fosse in grado, altrimenti no. Però tu avevi speculato una cosa, che una volta che i Lord of Cinder si fossero seduti sul trono avrebbero potuto condividere la propria energia con qualcuno. Con quello centrale. Esatto, quindi anche se non fosse stato in grado, magari avrebbe potuto assorbire il fuoco e il calore dei Lord of Cinder, quello rimasto nei loro corpi, per diventarne uno. E infatti è qui che voglio arrivare. La nostra missione è essere Prince Lothric al posto di Prince Lothric, a mio avviso. Ecco perché in un plot twistone vi dico che entrambe le mie teorie erano esatte. Secondo me è arrivata questa puntata. Quello è il trono per noi, il trono di Prince Lothric, perché noi dobbiamo fare quello che lui non ha fatto. Mi mancava questo passaggio. Noi dobbiamo usare il trono di Prince Lothric per prendere il suo posto, per eseguire ciò che lui evidentemente non ha fatto. Magari, in realtà, il piano di Firelink Shrine è stato inizialmente pensato per lui. Cioè, è debole, non può, è malato, non ce la farebbe da solo con le sue forze A, ma lo faremo vincolare così. Cioè, nonostante qualcosa accade, l'area va in putrefazione, Oserol si impazzisce. Sono successe cose, insomma. E allora qualcuno riesce a backupare quella zona e a spostarla, a duplicarla. Sì, no, mi piace, mi piace questa cosa dell'idea appunto del backup, sì, 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 sì. Capito? Cioè, ok, ragazzi, è un po' come se la narrazione si mischiasse con la forza del giocatore alla Undertale, alla Toby Fox, di riprovarci. Qualunque forza abbia portato F a svegliarsi. Come determinazione, come determinazione, sì. Sì, bravo. Praticamente è, ok, ragazzi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Prince Lothric è impazzito, è maledetto, è morto, non credo sia morto, però ci siamo capiti. È fuori gioco. Dobbiamo trovare un altro modo. E quest'altro modo è far svegliare le ceneri in un luogo che faccia pensare loro che c'è ancora una speranza. Perché, pensaci, è dove hanno fallito con tutti gli altri Lord of Cinder. I Lord of Cinder si svegliano in un luogo che gli urla, non vincolare, coglione, è evidente che non serva a niente. Tu immaginati svegliarci come F nelle vere tombe dimenticate. Io penso che F avrebbe scoperchiato la tomba, avrebbe guardato e avrebbe detto, ok, fa fuck this shit, e sarebbe tornato dentro la tomba. Perché, cioè, invece, nel pieno del continuo mentire di questo culto del vincolo del cazzo che odio fin da Dark Souls 1, ormai io sono delineato come Sith, non Sith il senza scaglie, come Sith di Star Wars, intendo. Ormai sono della forza oscura più totale. Se riesco a creare una zona diversa, una versione nel tempo non marcia di quella zona, posso sperare di svegliare il Champion of Ashes e di fargli credere che c'è ancora un baluardo che sta in piedi. C'è da dire che stai, in questa speculazione, presumendo qualcosa di non assolutamente folle dinanzi a quello che hai visto fare dal regno di Lothric, come sigillare delle anime all'interno di un santuario, per carità, assolutamente, e vedrai di peggio. Però, comunque, poter utilizzare la stagnazione a proprio uso e consumo è una cosa da divinità Dark Lord, Più che da... Porca miseria, hai ragione. Cioè, è pazzesco. Infatti, mi chiedo ovviamente chi possa fare una roba del genere che supera di 100 Ariamis. E già penso che Ariamis sia un dio. Mi piace molto l'idea. Sappi che sei in un luogo molto vicino ad Ariamis. Non come origine, ma come scopo. No, certo, come concetto. Sì? Eh sì, dai, è palesemente così. È un backup di una zona che in realtà è già andata. Ma credo anche che quella zona fosse vicina alla culla. E quindi servisse backuparla in un certo modo per provare di nuovo a vincolare. Ovviamente la stagnazione apre le porte a qualsiasi paradosso. I paradossi, per chi mi segue anche per Pokémon, si sa, sono casa mia. E quindi mi trovo molto bene a poter parlare di questa roba. Proviamo a contestualizzarla come un dipinto, anche se non è un dipinto, va bene? È come se avessero creato un dipinto di quella zona capace di replicare anche il rituale di vincolo avendo sotto un'altrettanto replica della culla. Mettiamola così. O comunque un collegamento spaziale tale da riuscire in ogni caso a vincolare effettivamente la fiamma anche se è un backup. Difficile spiegarlo meglio di così perché non conosco ancora le regole del gioco. No, no, ma ti sento, stai appunto toccando, te l'ho detto, tante cose molto dense e regole complesse tutte insieme. Lo so, sono pronto, sono pronto. Cioè, nella stagnazione di Dark Souls è corretto dire, visto come funziona già da tempo, quindi senza andare a scomodare sta roba qui, pensando a evocazioni e quant'altro, non è che si torna indietro nel tempo quando si viene evocati. Semplicemente si vive nel nostro presente anche un passato, però è come prendere un pezzo di spazio-tempo e spostarlo comunque nell'unica linea temporale che esiste in Dark Souls. Non lo definirei come un multiverso ramificato, quello di Dark Souls. È tutta un'unica linea dritta, però tu puoi prendere pezzi di questa linea e sovrapporli alla linea e cambia quello che succede dopo. Con la stagnazione e l'oscurità questo fa. Eh, ecco. Cioè, immaginati una corda, ma io prendo un pezzo di questa corda e lo metto sopra la stessa corda, creando quindi una situazione diversa dove delle cose si sommano e non è più una. Però qui devi stare molto attento, non ti dico di andare in una direzione o nell'altra, però molto, piedi di piombo, Saido, perché dire che facendo questo la soluzione poi cambia è delicato, perché tu hai potuto conoscere Tarkus ma non l'hai potuto salvare. Giusto, giusto. Mi raccomando, nel senso... È corretto. La cubula e la convergenza del tempo non necessariamente ti dà un contatto reale. Quello è quello che accadrebbe con il fuoco spento. Temo però che la superbia del culto del vincolo sia proprio questa. Certo, certo. Cioè, io credo che questo Firelink Shrine 2.0, questo backup, sia proprio il no. Noi non dobbiamo arrivare qui, noi invece lo possiamo cambiare. Avverto inevitabilmente ciò. E infatti ci siamo fermati, se vi ricordate, e infatti è il fambo, bravissimo, lì che volevo arrivare. Noi Manus lo abbiamo ammazzato. Sì, esatto. E abbiamo effettivamente salvato Dazio, che è arrivata al giardino Radice Oscura. Quindi è possibile. Esatto. Quella è la distinzione fra stagnazione e vero. È proprio un po' come quello che è accaduto nei ricordi di Dazio. Esatto. Nella superbia, secondo me, del culto del vincolo, c'è la possibilità di replicare una scena del genere, una situazione del genere, anche con questo rituale dei troni, dei cinque troni, pensando che Prince Lothric possa essere sostituito. Il che significa che da Prince Lothric non prenderò un tizzone, prenderò qualcos'altro, in teoria, perché lui non è mai morto vincolando, quindi non è un tizzone. Ci sarà un'energia, un'anima particolare, qualcosa che mi permetterà... Sì, sarebbe oltremodo brutale prendere un vivente e renderlo tizzone, sì. Eh, c'è capito. Allora, o c'è un rituale apposto, ce lo devo prendere e fare come era previsto si accendessero i falò in questo gioco, quindi devo prenderlo e portarlo e buttarlo nel fuoco, oppure devo assorbire da lui qualcosa. Però, in teoria, il trono di Lothric non credo che prevedesse avere un tizzone sopra, ma un cristiano. Eh, beh, c'è... no, allora, nessun trono è stato fatto per avere dei tizzoni sopra, eh? Eh, sì, è vero, hai ragione, hai ragione, è vero, hai ragione. Eh... In DS2 rivivi delle istanze senza modificare nulla, assolutamente sì, Matt, però in Dark Souls 1 no, in Dark Souls 1... Ma anche in Dark Souls 2, cioè tu non modifichi, ma non è neanche vero che modifichi in Dark Souls 1, nel senso, tu alla fine hai già avuto la leggenda di Artorias, semplicemente non è mai stata di Artorias. No, no, sì, è vero, è vero, però l'hai già fatto, il che significa che in una timeline 0 quella roba è avvenuta per la prima volta. Cioè, se tu non modifichi nulla, nel senso che è già avvenuta, la modifica però. Obiettivamente Manus è stato ammazzato attraverso un viaggio temporale, non da una persona che viveva durante la sua timeline. Quindi è teoricamente possibile cambiare le cose di questa lunga linea distorta che è la timeline di Dark Souls. Perfetto. Come ovviamente non lo possiamo sapere, però io credo che appunto questo per esempio sia il motivo per il quale Gundyr è posseduto dall'oscurità. Che è una cosa... si chiamava Gundyr, vero? Sì. La statua, ok. E il golem, insomma. Il golem. Non aveva senso, non aveva senso pensarlo posseduto dall'oscurità. Adesso sì, perché lui viene dalla vera tomba dimenticata, che è piena di merda. Quindi, semplicemente questo backup non può fare salva la vita a chi è stato già infettato nella vera versione di quella location. Ok. Ragazzi, sono sicuramente influenzato dal fatto che odio il culto del vincolo. E credetemi, tanto quanto ho letto bei commenti riguardo al fatto che Michele stia prendendo sul serio Pokémon e stia vivendo la sua avventura Pokémon con emozione. Anche io sto facendo lo stesso lo gennaio con Dark Souls. Quindi ho sviluppato un vero odio per il culto del vincolo. Cioè, credetemi, mi stanno genuinamente sul cazzo. E ovviamente questa cosa mi influenza. Questa cosa mi influenza e non riesce a non farmi vedere questo backup come... Sì, la vera speranza per la salvezza della fiamma, ma anche lo specchio delle allodole per i campioni delle ceneri. Un evitare che ci fosse l'effetto Guardiani dell'Abisso. E dire che i Guardiani dell'Abisso, insomma, avevano una grande intenzione di vincolare, ma seppure loro si sono fermati guardandosi intorno e dicendo Beh, ma che cazzo lo stiamo facendo a fare, che qui è tutto marcio? Magari il culto del vincolo ha pensato Se lo facciamo anche per il campione delle ceneri, lui non vorrà mai esserlo. Perché lo dovrebbe fare? Andare in una quest che gli richiede di morire miliardi di volte per riuscire a recuperare le detenzioni? E forse quel cumulo di merda nel quale si è svegliato migliorerà. Meglio farti vedere che esiste un bellissimo luogo pieno di... Sì, tombe di guerrieri, ma tu li rappresenti tutti. Quasi come le ali della libertà, mi capisci? Sì, sì, sì. Sei in cima a quella pila di merda di cadaveri, ma dici Ok, io li rappresento tutti, eredito il loro potere, sono qui in questo bellissimo luogo nel quale c'è la Guardiana del Fuoco, che è una bellissima donna che posa le sue mani su di me, mi riempie del potere delle anime e c'è un bel fabbro che mi produce le armi e compagnia cantante e allora sono spinto ad andare verso la mia quest, verso la mia missione perché mi sento eroico. Lasciamo perdere che poi F lo fa per un altro motivo. No, certo, anche i guardiani sono stati distratti da quello che è stato lo scoprire ancora nonostante tutto l'abisso, esatto. Eh, e invece secondo me con, appunto, se non ci fosse stato questo backup, ripeto lo chiamo backup perché è l'unico modo con il quale ora riesco a definire quello che ho davanti Va bene, ma certo sei ancora all'entrata Forse Dark Souls 3 non sarebbe esistito. Cioè pensateci raga, abbiamo ucciso Ludlet e è tornato in vita. Abbiamo ucciso la guardiana ed è tornata in vita Ma le guardiane muoiono perché sono morte Abbiamo una cazzo di tomba piena di guardiane morte È evidente che quel luogo abbia qualcosa che non va Non è possibile che la gente rimanga vincolata lì dentro Tirando fuori un meme del mio canale Mondo vero o mondo finto Perché devi sapere che ogni volta che ci avviciniamo a un gioco horror psicologico Arriva il momento nel quale ci chiediamo se il mondo che stiamo visitando è vero O è nella mente di qualcuno Ora non sto dicendo che Firelink Shrine sia nella mente di qualcuno Però minchia mi puzza È identico a un luogo che è marcito ma non è marcito Se ci ammazzi la gente dentro respawna Dove mi trovo? Cos'è? Nio di Matrix? Mi hanno messo un cavo nel... Fantastico! Cioè è qualcosa che non è propriamente reale Non so come altro definirlo Però non è normale che io ammazzi una guardiana e la guardiana non muore Perché le guardiane possono morire Lo sappiamo già che possono morire Ne abbiamo visti i cadaveri dei guardiani Esattamente Possono morire Bravissimo Eh sì E quindi perché? Perché invece questo luogo, questo Nexus di monzolziana memoria funziona così? Potrebbe funzionare così perché è magico È simile a Riamis Chi lo ha fatto? Forse mi viene da pensare chi ha ordinato il... Suonare la campana Ma a questo punto la domanda da farci è La campana è stata suonata per noi? O per... Lothric? Allora Lothric non aveva bisogno di svegliarsi No Non hai capito Aspetta Riformulo la domanda La campana è stata suonata affinché Lothric Prendesse i Lorde Tizioni e riuscisse a vincolare? O la campana è stata suonata dopo la creazione del suddetto backup? Per svegliare i campioni Andare a prenderti Guarda, escludendo dal discorso il backup E quello che possono essere le tombe dimenticate o meno Perché poi piano piano arriveremo a delle risposte più concrete Andando avanti rispetto a questa introduzione stupenda Qui posso risponderti senza lasciarti dubbi Perché hai già avuto tanti dialoghi a riguardo Che puoi prendere molto sul serio anche qui Quello che ti dice la guardiana Non è secondario E non è parte di un piano che è cambiato quando l'hai conosciuta Ormai tutto in vacca, la campana è stata suonata per i campioni O meglio, è stata suonata per i Lord of Cinder Però affinché noi li recuperassimo Eh sì Cioè la campana grande è suonata e ha risvegliato i Lord Però insieme a loro poi sono arrivati anche i poveri Unkindled Che sono diventati il piano C Il piano A era il nostro caro principe Lothric Il piano B, i Lord of Cinder Tutto in vacca, piano C Ecco, ok, quindi la campana è stata suonata inizialmente Affinché Lothric ammazzasse i Lord Beh sì, diciamo che la prima Affinché Lothric insieme ai Lord vincorasse I Lord hanno fatto E allora, ok Allora, allora Mi, ti spiego Sì, puoi prenderla così Non è una correzione la mia È una esplicitazione Ossia In teoria Lothric, il piano A, non richiedeva nessun suono di campana Lui sarebbe dovuto diventare un Lord of Cinder Però è nato storpio Questo te l'ho già detto Questo te l'ho già detto Debole, malato Esatto Quindi la campana è suonata quando lui ha fallito il vincolo Non si sa Stai rifiutandosi, non riuscendoci È inciampato, si è perso Non lo sappiamo Però la campana non riguardava più Lothric Quel trono sarebbe rimasto vuoto Perfetto Perfetto, perfetto Allora non è un bivio Emma, Emma, però ti dice Per favore salva la sua anima Rendilo il Lord che dovrebbe essere sempre stato Quindi il suo trono ora Sarebbe comunque utilizzabile se lui tornasse Metti caso che in Dark Souls 3 c'è una quest Che ti permette di avere un finale in cui lui accetta il suo destino Allora funzionerebbe O tizionarlo O magari gli facciamo una bella archeio su un falò E poi lo portiamo E poi lo portiamo Ha perso la metro, assolutamente ragazzi Credo sia ormai canonico Innanzitutto ho 40 minuti d'intro che sono volati Il mio cazzo sta volando in questo momento E mamma quanto mi siete mancati Tutti, anche tu E viceversa È bellissima questa intro Mi fa piacere Mi fa piacere E non ho finito però No, ma che Ok, quindi la campana suona A questo punto mi viene da dire che Chi suona la campana O chi ordina Il suonare la campana Perché in realtà la campana Credo l'abbia fisicamente suonata La guardiana che c'è morta sotto Sì, sì, è possibile E probabilmente anche chi ha ordinato Questo recupero delle tombe In forma ripulita C'è un'entità che ci sfugge Che dietro tutto Sta mantenendo secondo me Viva la speranza del vincolo Chi è il boss? Non dico boss a livello di gioco No, no, chiaro, 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 chiaro Chi è che tira le fila di questa volontà Di vincolare? Guinevere? Probabile Della quale ancora non sappiamo niente C'è un dettaglio riguardo Hai appena avuto esatto Danello? Bra Stavi Bravissimo È per quello che dico Guinevere Spot on Infatti è questo il primo momento In cui puoi ufficialmente Cominciare a pensare Ah, e questa ci ha messo Il zampino forte Eh, vabbè, ma Ci sta cazzo che voglia Mantenere viva Eh, sì, esatto Magari anche come pentimento La volontà del padre Visto che lei è scappata Da Norlondo In Dark Souls 1 Forse dopo si è pentita Anche per via di quello Che è successo a Gwyndolin Che è stato mangiato Adesso da Aldrich C'è stato magari Un riavvicinamento Non possiamo saperlo Però, secondo me Guinevere potrebbe essere Una delle entità Che vuole in ultimo Questo vincolo Che vuole che la volontà Del padre venga mantenuta Abbiamo poi il solito Spettro di Sabaku II Che non mi abbandonerà mai Nel senso che Esatto, guai a farlo Il primo giocatore È comunque il primo tizio Ad aver vincolato davvero Oltre a Gwyn Eh sì, vabbè Gwyn Oltre a Gwyn Sì, sì È vero, è vero Assolutamente sì Oh, e Benché questo non credo Renda Tale Entità Un dio capace Di backupare la realtà Sfruttando la Stagnazione Salvo che mi manchino Ovviamente dei particolari C'è da dire che potrebbe Far parte di questa Squadra di persone Che vogliono il vincolo A tutti i costi È il primo ad averlo fatto Il primo ad aver Anche compreso Che non era sufficiente E del resto La campana Credo abbia svegliato Anche lui Quindi paradossalmente È possibile Che in realtà La campana Sia stata suonata Anche per attingere Ai poteri Del primo vincolatore Da parte di chi Sta cercando Che il vincolo Continui a essere effettuato Ci stiamo avvicinando Alla fine di questa storia Lo avverto E Continuo a dire Che grazie alla vostra guida Grazie al Alla vostra capacità Di Spiegarmi Dark Souls 3 Nei suoi punti più oscuri Io avverto questa storia Come la più ordinata Di tutte Sì Infatti È una bellissima analisi Anche del come Ne stai parlando È fighissimo Cioè Voi Mi avete reso capace Di Costruire Dark Souls 3 Un mattoncino alla volta E Arrivati a questo punto Non dico che per me Sia tutto chiaro Ma le domande sono quelle Precise Specifiche Eh C'è questo esatto Conta molto Vicino al finale Tra mille virgolette Nel senso che Non so quando finirà il gioco Però Sento che dopo Prince Lothric Si comincerà a quagliare ragazzi Cioè Comincerà a arrivare la fase finale Anche perché Vi ricordate Io vi dissi Finito Yorm C'è Lothric da fare Ma Lothric la stiamo facendo Sì E Arriveremo A Prince Lothric E secondo me Una volta scoperto Che cazzo di fine ha fatto Prince Lothric Anche Lothric Ce la siamo giocata E a quel punto Che c'è Che cosa succede In teoria Secondo il piano Vado a vincolare Esatto Della guardiana Dovresti avere Gli strumenti necessari Per Se non ci sono venuti da solo Li porti come tizzoni Avere i Lord of Cinder È concluso Appunto Esatto Esce Sofariandella E The Ring of City Li vedo qua in In title screen Esatto Ecco Io credo che The Ring of City Salvo sorprese Michele me lo farà giocare dopo Perché altrimenti Forse sarebbe già arrivato Il momento A meno che non c'è il plot twistone finale Finito Prince Lothric Vado in questa città Ehm Annellata 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 Ehm Quindi insomma Credo che lo giocherò dopo Il DLC Ehm Nel qual caso Insomma Ancora di più Mi sento di dirvi Che ci stiamo avvicinando Alle risposte Alle domande Che mi sto ponendo In questa introduzione Ehm Non so che Termino Non so che impressione Avevate voi Ma per me È palese Che non ci possa essere Dark Souls 4 Ne ora ne mai Fantastico È molto Molto Guarda Questo è un dialogo Importantissimo Da avere da parte tua Che hai questo percorso Hai questa unicità Incredibile Bellissima Unica in realtà È per sempre registrata Il che è un valore pazzesco Tu hai detto qualcosa Che ha Una preziosità unica Perché Hai capito Più di tanti Quanto siamo veramente Al limite Qui siamo veramente Al limite di tutto Ehm Come vi dicevo È grazie a voi Grazie al fatto che mi avete guidato Mi avete spiegato delle cose Che voi non avevate magari Potuto capire in blind Cioè per me è ovvio Siamo alla fine Nel bene e nel male Siamo alla fine Ehm Non si può più andare È il momento di decidere Che destino Intraprenderà questo mondo Che finirà Per come lo conosciamo In Dark Souls Quindi In teoria Nel cuor nostro Potremmo dire Che qualsiasi altro Titolo From Software Che viene dopo È il continuo Di Dark Souls Dico una cosa a caso Nel senso che Spiritualmente parlando Sì Nel reset La realtà A tal dettaglio Elder Ring Viene dopo Il casino Che succederà Alla fine Di Dark Souls 3 Però è rilevante Il punto è Narrativamente parlando Non sento Che sia possibile Dark Souls 4 Perché hai alzato Talmente tanto i toni Nella fine del mondo Nella fine di tutto Nel fatto che la realtà Cade a pezzi Che qualsiasi cosa Ehm Verrebbe dopo Finirebbe per Banalizzare Quello che stiamo vivendo adesso Cioè Non puoi giocarti la carta La realtà Sta cadendo a pezzi Tutte le volte Se no Arrivato alla seconda Già la seconda volta Esatto Mi sento di dirti Vabbè ma che cazzo vuoi Tanto poi alla fine Puoi dire Che in realtà Torni indietro E no Qui siamo Ai confini del mondo Sta cadendo tutto a pezzi Non può esistere Dark Souls 4 Perché Nel 3 Avverto proprio Che tutto quello Che si era creato Nella grande bugia Della possibilità Di estendere la vita del fuoco Sta venendo al pettine Non era possibile Gwyn si sbagliava E qui torna La mia influenza Oscura Gwyn si sbagliava Gwyn ha cercato Di inseguire un sogno Che per un momento È stato anche possibile Hanno chiuso gli occhi Tutti Hanno ignorato Il fatto Che cazzo Aveva avvisato E hanno detto Va bene Facciamo finta Che sia naturale Che questa fiamma Si estenda Ma Non è così Non si poteva fare Non si è mai potuto fare Brutte teste di cazzo E quindi E quindi adesso Ci siamo arrivati Adesso che cosa Che cosa si fa Ora che non si Può vincolare O meglio Si può fare Ma Secondo me Sarebbe stendere Appunto E accanirsi Terapeuticamente Su un mondo Che è andato Si scopre Cosa c'è Oltre queste tombe Dimenticate Quindi carico La mia partita L'unica cosa Che ti posso aggiungere È un dettaglio Più Vicino al presente Di tutto quello Che vi scuso Fino ad ora Ossia Oltre Il Boss Oseros Tu hai Trovato Un ricettacolo Giusto Corretto Rotto Con un cavaliere Davanti Vero Esatto Sì Esatto E dove hai trovato Anche l'emote Ecco In pratica Quel Quel ricettacolo È un indizio È un simbolo Per farti capire È una cosa Che può assolutamente Risultare ovvia Ma che detta ad alta voce Ha un ruolo diverso Ossia Il cimitero della cenere Inizialmente Non era un cimitero Praticamente Era oltre Il nostro caro re O comunque Il re non stava Chiaramente lì Un tempo Però Era oltre Quella sala Il giardino Che si andavano A posizionare I morti E le tombe Ok Solo che poi Sono diventati Nel tempo Talmente tanti Che hanno dovuto Strabordare E arrivare Fino al santuario Cioè Che il santuario Del vincolo del fuoco Sia pieno Di tombe Non è una cosa bella Ma si è arrivati A quel punto Perché non Si finiva più Capito E infatti C'è un altro ricettacolo Non può essere Il ricettacolo Di S1 Vero Assolutamente no No non solo È troppo piccolo È anche un ricettacolo Di pietra Quello Giusto Hai ragione No no Non è lui Però è una benissima domanda Ti dico solo una cosa Se in teoria ho ragione Si Che Firelink Shrine Attuale Non è Firelink Shrine Vecchio No certo Certo In una posizione Superiore Proprio a livello Geologico Si Rispetto al Alla culla Della prima fiamma In teoria Hanno ristrutturato La zona del finale Dark Souls 1 Aspetta Aspetta Ripeti Dimmi Allora Se Ho ragione Quindi premesso Che è una mia supposizione Certo Se ho ragione E ai piedi Di Firelink Shrine Si trova la quilla Della prima fiamma Ho capito Sì Perché secondo me Quei troni Sono esattamente sopra Sì Allora hanno ristrutturato La zona del finale Dark Souls 1 Cioè invece di essere Quella distesa Di cera Perché ovviamente Lì la fiamma Si era proprio Espanza E quindi avevamo Il metallo Che si era fuso Oggi Anziché quello Nei millenni Sarebbe creata Una zona Completamente diversa Molto più ordinata Come il Nexus Esattamente Bravi Chissà Magari è così Magari vivremo Una versione Proprio Iper ristrutturata Ehm Tra l'altro Bravi Esatto C'è anche la fiamma Che teleporta Proprio subito Al centro Di Firelink Shrine Ci sono un po' Di cose strane Stupendo Puoi andare Possiamo cominciare Adesso puoi giocare Le tombe dimenticate Che figata Atomica Ci siamo Abbiamo fatto 55 minuti Dientro Non Per metti caso Con il prologo 50 minuti Sì sì Io ne ho 50 precisi Esatto E il fatto che io Stia tenendo lo scudo A due mani Denota quanto fossi Nel panico mentale L'ultima volta Cioè io sono uscito Dal gioco Con lo scudo A due mani Bellissimo E poi uno scudo Nuovo E fighissimo Quest complete Completismo Yes Che run Che run Leggino Ragazzi Aiutatemi Leggino Ti aiuto io Allora Ero indeciso Su quando fartelo fare Ma tu devi fare Non un leggino Devi fare un leggione Tutto il materiale di Oseiros È completamente nuovo Ok Quindi andare a vedere Cosa puoi craftarci Anima Prima l'anima anche Oppure no 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 vai pure Vai pure Ok A meno che non mi correggiate Ragazzi mi sbaglio Deve controllare Cosa può creare No Oseiros è stato l'ultimo Non c'era il tempo No Deve guardare tutto Io Mi fido di voi Non ricordo Sì 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 Ok ok vai 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 Allora Anima di Oseiros Il reconsumato Esatto Un'anima corrotta Intresa di potere Usala per acquisire numerose anime O trasferiscila Per estrarne La vera forza Oseiros si impazzì Nel tentativo di utilizzare Il proprio sangue reale Per uno scopo più alto E giunse presso gli eretici Giusto L'archivio centrale Non l'ho ancora visitato Per uno scopo più alto E giunse presso gli eretici Dell'archivio centrale Dove scoprì La fede corrotta Di Sith Il drago pallido Mamma mia Ok E forse è qui che è diventato drago Però non è possibile Però Cioè Se così fosse Vorrebbe dire Che quella figlia Mezza drago È nata Sarebbe nata Dopo Questo incontro Con gli eretici Dell'archivio Noi sappiamo C'è questa figlia Antropomorfa Ma con Non saprei neanche Come definirli Quei tentacoli Draconici Che le escono Dalla Dalla faccia E E anche la codina Sotto la Gonna Dicevi? Allora Tu hai ancora Una Benedizione divina Quella 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 di Quella magica Penso sia Forse Fammi vedere C'è una descrizione importante Ce l'ho Ce l'ho Ce la dovrei avere Credo Credo di sì No C'ho solo quella divina Non quella mascosta Cosa che dice Quella divina normale Ma non credo sia quella giusta La regina di Lothric Moglie di re Oseiros Era venerata Come dea dell'abbondanza E della fede Ma no C'è quella giusta È quella giusta È quella giusta Dopo la nascita di Ocelot Che è proprio il figlio Che hanno ucciso Nella posta Visto che ti ho portato Nell'oggetto giusto Sua ultima figlia Ella scomparve per sempre Ecco Questa descrizione è importantissima Lei è stata Fino all'ultimo Ordine Di figlie Di Diciamo Dare alla luce Un erede Dopo Lothric Dopo Lothric Quindi lui credo sia diventato Drago per avere Una prole più forte Ecco Ecco Te la metto in maniera Un po' più politica Così tu possa poi Continuare a speculare E a leggere Questo è visto Guarda che ragnatela Di descrizione Questa è un po' Mad Maxiana come cosa Per chi ha visto Mad Max Sa Allora Tutto il regno di Lothric Si basa sul vincolo Ogni cosa è legata al vincolo Ogni cosa è legata al sacrificio Abbiamo le guardiane del fuoco Sulle alte mura I cavalieri decapitati Nelle cattedrali C'è qualcosa di terribilmente Legato al Darsi per il fuoco Per il regno Ora Tu sei il re L'ultimo di una stirpe Di vincolatori O comunque di Creatori del vincolatore Certo Quale Disgustosa Posizione Di disonore E vergogna Deve essere Avere un figlio Incapace Porca miseria Terribile Esatto Tu diventi Qualcosa Di simbolicamente Terribile Specialmente Quando il mondo Il motivo Per il quale il mondo Andrà in rovina Quindi Oseros deve aver sentito Una responsabilità Sulle sue spalle Devastante Esatto Ed è per questo Che è andato a cercare qualcosa E quel qualcosa Lo ha portato Alla follia Al consumarsi Nella ricerca E quella ricerca È stata Divenire drago Ne sono abbastanza sicuro Adesso Ecco perché è antropomorfo Esatto Lui ha cercato Di potenziarsi Per avere Un figlio Più forte Che potesse vincolare Per qualche motivo Ocelot È stato Il momento La nascita di Ocelot È stato il momento In cui lui ha perso Totalmente il senno Guinevir Quindi se n'è andata Perché ha detto Vabbè Fatti È impazzito Esatto 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 Di nuovo Per la seconda volta Sì No ha detto E vabbè E vabbè E vabbè E quindi È andata via E non credo Che sia morta ragazzi Rispondo all'azato Per me l'ho scappata La chat La chat è deliziosa Ci sono persino In chat ragazzi Che ne sanno del giapponese Il re consumato In giapponese Il re stregone Per farti capire Che comunque Lo collegano Ancora di più a Sith Sì 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 E ecco Spiegate anche Le diverse statue Di trasformazione Uomo drago Che abbiamo visto in giro È quella fede lì È la fede in Sith Di eretici Che cercavano Di divenire draghi Probabilmente Per raggiungere Una forma La butto sulla poesia Che potesse sopravvivere Alla fine del mondo In quanto i draghi Almeno quelli originali Sembravano essere Al di là del tempo E dello spazio Magari Per loro Essere draghi Significava Fussersene Di tutto questo Di tutta questa lotta Tra bene e male Tra bene e male Se vogliamo definirla così Tra fuoco E oscurità Perché tanto un drago È sopra Tutto questo E quindi magari Dal loro punto di vista Il concetto era Perché dobbiamo Preoccuparci Fiamma Non fiamma Ma pensate a quante Cazzo di Idee Abbiamo Proprio Come dire Quante tipologie Di indirizzi Abbiamo incontrato Durante Dark Souls 3 E io che pensavo Di essere davanti Solamente Alla Allo scontro finale Tra fuoco e oscurità E invece no Abbiamo il fuoco L'oscurità Le profondità Di Aldrich E la chiesa nera Con Yuria E Fride Che invece Ha un'altra idea ancora È il momento Tu adesso hai Sottolineato una cosa Veramente speciale Ossia Una cosa a cui Tenevo dare importanza Probabilmente La prossima volta Ma L'hai evidenziata Da solo L'hai evidenziata Da solo Quindi visto che L'hai fatto da solo È il classico Momento premio Solo che è un premio Non tanto di speculazione Tanto quanto Di nostro progetto E bellezza del tutto Tu hai notato Come nonostante Abbiamo completato Ok Lord Abbiamo sconfitto tutto Siamo all'apparente Endgame E comunque Ben che vada L'esperienza da videogiocatore Fa capire che le ore di gioco Sono tante Siamo lì Siamo là Abbiamo oggi anche giocato DLC Mamma mia Adesso a questo punto C'è l'Otri Che poi evidentemente Il gran finale È il botto E qui hai detto Sì però Solo in questa introduzione Ma quanto altro Stiamo aggiungendo Quanto altro Ma quanto c'è Ecco adesso io Se Per un momento Passi alla mia live Ti faccio vedere Poca miseria Aspetta eh Sì Devo Aggeggiare con uno Con un monitor Eccomi qua Sì sono della tua Faccio vedere anche loro Sì certo certo Zubedo Zubedo Allora Allora Sono da te Right now Non è vero Cosa è successo What the fuck Aspetta Nessuna fredda Ho pigiato Ho pigiato uno schermo Sbagliato Come mai non torna Modalità studio È perché è sbagliato Lo schermo che sto catturando Simple È sdetto Vado Adesso dovrebbe andare Yes Sei solo Aspetta Sì sì sei giusto Non siamo giusti Siamo giusti Ok ti vedo Devo attivare l'audio No No ok Ci sono Allora È pronta La thumbnail Della season 2 Ah Il godo Il godo Il godo E quindi Non è come quella Di Dark Souls 2 Non è qualcosa Su cui devi speculare È solo un Farti capire Che non ti sarà subito Tutto chiaro E questo significa Che la ciccia Non è finita Ok Anzi Questa è l'immagine Della season 2 Ancora non la vedo Ok eccomi Oh I ragazzi In una mia chat Capiranno tutto Ovviamente tu sei Anzi è un What? Abbiamo Vabbè F ovviamente Con il suo Con la sua anima oscura È il nuovo set Abbiamo Una pagina strappata Una pagina strappata Che brucia Ma è strappata Proprio da Phalanx La strappata Phalanx Credo una pagina Dell'anima oscura La sta bruciando Esatto Quindi non vuole Che F la legga Quella credo sia L'armatura di Sabaku Quella bruciata L'elmo tuo Tipico O forse addirittura È quella di Phalanx Cioè Phalanx Non vuole che F sappia Come ha vincolato E perché Forse questo è il fatto Esatto Esatto E poi abbiamo Un background Sì il background Che è il buco nero Di Joel Della chiesa nera Cioè quello di F E delle spade Che non Credo di riconoscere bene Ok no aspetta Una è proprio La lancia del vincolo Esatto L'altra forse È quella dell'antivincolo L'altra no L'altra non la conosce Non la conosco Ok Una è quella È la lancia del vincolo Diciamo Sì Tipico Cioè proprio dei falò Esatto esatto È l'altra no È l'altra no E poi c'è qualcosa di rosso Dietro Magari il fuoco Sì può essere Vedremo Sì Non ti dico altro Fighissima Let's go Comunque fighissima Fighissima Sono gasato E però dai Non c'è due senza tre Secondo me manca ancora Un pezzo Perché se no Cioè che si fa Ora la season 2 E poi è finita No 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 Infatti Assolutamente Avremo È la season 3 Allora Esatto Tra l'altro Noi stiamo già pensando Alla season 3 A livello di produzione Di sigla Con Michele Ci stiamo già interfacciando Per capire come Dove e perché Godopole Bene Allora Ragazzi Ritorno al mio schermino Esatto E prima di poter Effettivamente giocare Fai un salto al santuario Per gli oggetti Che puoi creare Con la sua anima Assolutamente Intanto qua sto Ci vado a piedi Ti torna? Let's go Che bello Non vedo l'ora Di giocare anche Sekiro Insieme Mamma mia Sì Nel 2024 Sì sarà bellissimo Nel 2024 Vai No ma sarà bellissimo Tra l'altro Ma sai perché? Perché ci pensavo L'altro gioco Ieri abbiamo fatto Con alcuni creator Tutto tra l'altro In giapponese Tra l'altro Quindi proprio Sarà incredibile Ecco Io ieri Ho giocato Con altri ragazzi Altri creator Rasmash Abbiamo fatto Sì fichissimo Me la godo ragazzi Questa cosa Abbiamo giocato A Smash Nella puntata Numero 1 Del Poggen E poi ci siamo Intrattenuti a chiacchiere Con Viking Non so se lo conosci Ragazzo che fa Speedrun No non conosco Non conosco Fa speedrun Fa speedrun Mi ha raccontato un po' Fa speedrun E anche di Sekiro In particolar modo Mi spiegava Sono bellissime le speedrun di Sekiro Mi spiegava che Sekiro Può essere completato In teoria Anche senza glitch Nella sua true ending In 50 minuti Assolutamente Sì no le ho viste Guarda Sekiro è l'unico Titolo from Di cui ero confident Nel poter fare speedrun Quindi le ho viste tante Ne ho viste veramente tante E Parlando di Sekiro Mi sono reso conto Che per ora A livello di ambientazioni Sekiro mi è piaciuto Di più di tutti E tra i Dark Souls A livello di ambient Proprio parliamo di Ambientazione Non di level design Ok Sì sì Di ambientazioni E quindi sono curioso Di vedere che succede Quando queste ambientazioni Vengono potenziate Dalla tua presenza in live Dalla nostra interazione Sono curioso di vedere Come mi piacerà Sekiro Insieme Se già mi è piaciuto Così tanto Da soli Fantastico No ma sarà un'esperienza Importantissima Ah e poi ti dico anche questa cosa Te la dico direttamente in diretta Perché se no me ne scordo Vai Ti vogliamo Alla prossima puntata Del Poggen Che è questo torneo Tra streamer E se tu non dovessi essere Presente fisicamente Perché magari sei impossibilitato Ok Le impegni Vediamo Abbiamo deciso di comprare Un cartonato tuo Bellissimo Collegamento Vocale Mentre c'è questo cartonato tuo Fatelo muovere ogni tanto Sì Esatto Esattamente Ok Perché la prossima puntata È su Guilty Gear E sappiamo Chi è Guilty Gear Mamma mia Ok Wow Let's go Eh ragazzi Voi mi fate venire Pisellino duro A dirmi che Bloodborne È ancora meglio Perché io ieri parlavo Non voglio buttarla in chiacchiera Però parlavo Del punto di Sekiro Con gli Aquiloni E per me quel punto lì È un punto da brividi È bellissimo Sì È stupendo Ah parli degli Aquiloni belli Non quelli Ok No no Quelli belli Pensavo che parlassi Del tizio che si butta Dal tetto No 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 I tizi che ti planano In culo Con gli Aquiloni Sì sì Per me quel punto lì È da brividi Ah quello Ok Sì 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 Stupendo E Se voi mi dite Che quel contenuto A livello artistico È superato da Bloodborne Io proprio mi prendo No Non voglio Guai Ragazzi Ragazzi Io vi capisco Ragazzi Vi capisco tantissimo Non sminuite Sekiro Ti posso dire questo È in un'altra ambientazione Pari Ok ok pari Pari ok ok Io ragazzi Continuo a sbagliare trono A questo punto ci rinuncio Posso ammazzarlo? Eh quante volte vuoi? Ti ringrazio Ti ringrazio Ok Torno subito No no puoi anche utilizzare Puoi anche utilizzare Ah già posso comunque Anche quando è morto Sì Ok ok Vado Scusate Che è proprio un cesso Questo qui Rappresenta tutto ciò che odio Del culto del vincolo Eh no non posso Non posso fare Ah not yet Ok 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 allora sì Non ti preoccupare Poi si sbloccherà la possibilità Ok ok Io spero che Alla Toby Fox Ci sia nel codice di gioco Un counter Delle morti Che infliggi a Ludlet E tipo alla fine del gioco C'è un bonus Per chi l'ha ammazzato Tutto volte Una pacca sulle spalle Bravo che hai ucciso Ludlet Quel merda Cosa ho fatto? Ah mi devo ritelerasportare Mi sa Sì Devi ritelerasportare Ok ok Quel merda Devo prima uscire E poi rientrare? Sì farlo No non devi Però è uguale Non c'è problema Un trofeo esatto Un trofeo Ludl 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 Cazzo Bellissimo Ludl 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 Dovrebbero Ludl In realtà tu sei l'unico mostro Che fa questa cosa Il Fade Spero di no Ma dai No 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 C'è un'intera run di Dark Souls 3 Di Lara Di Fenrir In cui c'erano anche i membri Di Ludlet morto a ogni episodio Che bravi Brava Lara Brava Spero che lei sia un'altra Di quelle che odia il vincolo Eccoci qua Allora Vediamo Che cosa Sblocca L'anima Di Oh Seuro Esatto Facci caso Drago bianco Soffio del drago bianco E questa qua Anima di Oceros Sì Sì Una stregoneria di Eh minchia Di cristalli tra l'altro Il re consumato C'è da dire poi che Addirittura il saggio di cristallo Era precedentemente impegnato Negli archivi centrali Giusto? Quindi in teoria In quanto Seguaci Loro dicevano addirittura Discendenti Di Logan Grancappello Tutto torna Lì c'era Lo studio della magia Di Sith Comunque Una stregoneria Di Oceros Il re consumato Esala il soffio di cristallo Di Sith Il senza scaglie In grado di penetrare Le armature E infatti Anche a livello Di fight Lui replica La maledizione E il pattern Dei soffi Appunto di Sith Di DS1 Ma non solo Questo incantesimo Nel caso tu non lo riconoscessi È quello che ottieni Finendo al 100% La quest di Logan Esiste in grado Ah non me lo ricordavo Non lo ricordavo Ma È il suo capolavoro Fatto nella follia Ok ok Prima di impazzire No no Sì Diciamo sì L'istante prima di impazzire Ecco Gli studi di Sith Attirarono l'attenzione di Logan Che nudo e folle Si impossessò Di tali opere divine Non c'è dubbio Che Oseiros Volesse seguirne L'esempio E ora sappiamo Anche il perché Abbiamo altro Di Oseiros Sì Abbiamo Spadone della luna Che è quello Proprio di tutti i giochi Di From Software Arma leggendaria Associata In questo caso Giusto a Sith Il drago pallido Quella che ottenevi Dalla sua coda Sì sì Corretto Carica al massimo L'attacco potente Per scatenare Un'onda Di luce lunare Oseiros Il re consumato Era ossessionato Dalla luce di luna Che però Non gli fu mai rivelata Era ossessionato Dalla luce di luna Come mai ossessionato Così tanto Dalla luna Sempre per I tipi di esperimenti Che faceva Sith In questo caso Si parla Del potere Della stregoneria Sì Generalmente Forse del potere Della stregoneria È la cosa più corretta Cioè diciamo Che lui era Disperatamente In ricerca Del potere Che racchiude Questa spada Mettiamola così Sì E che potesse Fargli fare Il salto successivo E creare un figlio In grado di Peraltro Questo mi Fa pensare Lui non era In grado Di vincolare O sei Ross Non lo sapremo mai Eh non penso Sicuramente Non era abbastanza forte Aveva bisogno Di fare un figlio Con Guinevere Quindi in realtà Il loro matrimonio Probabilmente Era combinato Per creare Una prole Capace di vincolare Forse da Forse da Guinevere stessa Per quel che sappiamo Certo Da Guinevere stessa Del tipo Ok Ora noi ci mettiamo insieme E facciamo la fabbrica Dei mostri Esatto Li mandiamo a morire Ok Sì sì esatto Li facciamo Gli diciamo Beh sei venuto al mondo Tra dieci anni Ci si butta nel fuoco Sei contento E poi però è andata Come è andata Ricordiamoci che anche La danzatrice Doveva essere Una di loro Forse Eh chissà 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 Comunque Abbiamo finito anche qui Esatto Quello che puoi fare Adesso Sì Se proprio visto che siamo già A Firelink Adesso metto anche il tuo audio Vai a parlare con Il Greyrat Sì vado Fammi controllare se posso fare del potenzio Ma certo La ucci Spera ma ho sbagliato No è giusto Rinforza arma Ah ma perché forse è potenziata al massimo Sì l'abbiamo fatta più dieci Che stupido E qui non ne abbiamo ancora abbastanza Quindi i ripperini Questa però si è Spade incantate La danzatrice più tre Le facciamo A voglia Se si è già più dieci Ragazzi Dieci giorni sono passati Abbiamo schegge di Estus Robbe Particolari Aumenta Usi Estus No Dai il carbone Però possiamo dargli Il carbone profanato L'abbiamo già letto Credo vero Letto sì È quello del ghiaccio Giusto Giusto Fai dìmi careful Alla mia Anche lui è bello preso Dal vincolo Sì E lui si sente servitore Del vincolo Creando le armi Per tutti i potenziali Certo Lui dice Non dimenticare Che la luce del fuoco È speranza Eh certo Certo Bel personaggio Andre mi piace Mamma mia Dinanzi a un Tizzone Così Terribile A un carbone Così Oscuro Con una fiamma Profanata Ah dove vai Dove vai Sì come no Vacci Vacci Sì vacci Posso andare anche Da Yuria Dopo Oh sì Si libera Ma tu sei bravo Dai Ma io non voglio Sentire E morire Un Petty Rat E Considero Tuo Friente Un attimo Vorrei Vederlo In faccia Perché se poi Non torna più No Non ce l'ha Il volto Non ce l'ha Il volto No Ma mi avevi Insegnato Il trucco Pazzo Eh sì 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 Ma lui È È speciale Sì Ok Vabbè Speriamo che torni Ragazzi Ha detto che nessuno È mai tornato Sano e salvo Già Andiamo da Yuria Vediamo che mi dice No Stessa cosa Dovrebbe essere Esatto Però Rimane Il piano più bello Questo Bellissimo E il volto Di Yuria Da qui mi sa Che Aspetta Scusate Oggi è la Voltiran Niente Vuoto pure il suo No Aspetta Mi scusi maestro Io devo fare Le prove Devi ma Sei qui Sei qui Giocaci pure Fa parte delle avventure E dai Mi sa che è vuoto Sì Purtroppo si Sì Sì È vuoto È vuoto Eccolo qua Esatto Purtroppo si Sono solo capelli Non c'è niente Ora li vediamo bene Uno dei motivi Per cui creiamo Quella bellissima Storia di roleplay E di conseguenze Nella sopravvivenza Nella mia richiesta Di Pietà Per Patches Comincia a svilupparsi Adesso Se gli vai a parlare Avrà un bellissimo Dialogo adesso Patchesino Sì È arrivato il momento Di ammazzarlo poi No Però Però Non hanno ti Sabako Sabako Allora Per andare da Patches Tutto dritto In teoria No Devo andare più sopra No Sì Sad side Eh sì Ragazzi Prima o poi Lo ammazzerò Sto Patches Di merda Madonna Che live Bella Sarà quella Andiamo live Ammazzo Patches Finisce la live Diventa il content Più visto Della serie Episodio extra Sì Ammazzo Patches Non lo diceva già Questa cosa L'aveva già detta Continua Continua Sì sì Questa l'aveva detto È vero Continua Stessa cosa Ok allora Ricarica 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 Ricarico Esco e rientro Proprio dal gioco Ma guarda Vai pur Prova Prova Dovrebbe funzionare Come al solito Qui che exictino Esatto Ragazzi ma perché Siamo così tanti Vi dobbiamo lasciare Di più in astinenza Se poi vi collegate In un miliardo Di persone E non abbiamo ancora Ucciso un mob No è vero C'è da dire Che è davvero magico Ormai stiamo Raccogliendo Diecimila persone Qualsiasi cosa Facciamo insieme Che bello Grazie ragazzi Meraviglioso Meraviglioso Let's go Let's go Let's go No basta Torture Maestro Lei ci imbroglia Lo sta solo Proteggendo Il Pachos Sì sì Ma che cosa ha fatto Patches Ha volato Per un attimo Ah ecco Ok ci siamo Ok Ok No No Devo diglielo Per forza Tu Diglielo È una cosa dolce Dai Vallo aiutare Schifoso Dai che c'è il debito Bastardo Eh hai visto Che lui Parte come Patches Però poi si preoccupa Genuinamente Eh dai Speriamo che vada Aiutarlo Sì sì Intanto gli stiamo Dando un super Pod Come l'ha fatto Sigurd A Eritail Eh esatto Esattamente Vero E ha qualcosa di nuovo Da vendermi Non credo No Ah no Non posso neanche più Comprargli roba Eh no È molto preoccupato Adesso Vallo aiutare Bastardo Forse se non porti Patches qui Greyrat muore E invece se Potrebbe Hai mandato avanti La questline Anche di Patches Lo salva Eh capisci Quanto può essere Complessa e speciale Eh ci potrebbe stare Effettivamente È morto Sì lui Sì sì Mortissimo Che è a posto Possiamo andare Livellini Andiamo Beh io direi 30 vitalizio Tutto E aumentiamo La semprina Che durante Fride Fride Si è sentita Proprio la mancanza Di temprina Vediamo Se abbiamo Anche degli oggettini Da usare Delle anime Da kun su boias Ce ne abbiamo A voglia Oh vai Ecco qua Un altro temprino Bisogna Fa 30 anche lì Proprio Di cattiveria Vai E si va E si va a godopoli E a questo punto Maestro Direi che È fatta È veramente fatta Adesso Viaggia Lotricopoli Caserma del drago Ah sì perché Dobbiamo tornare Al ponte Dei draghi Che sputavano fuoco Corretto Ma no Non è corretto Perché hai le tombe Dimenticate Dinanzi a te E non le abbiamo finite Le hai appena cominciate Ok E ragazzi Perdonatemi Dieci giorni sono No 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 Adesso ti metto i brividini Tu Non hai neanche raggiunto Il colosseo È giusto Altro È arrivato al parallelo Di Gundir Corretto E il santuario C'è Non c'è Che ci sarà qui Allora dove devo andare Però per A tombe dimenticate Esatto Eh già Guarda è proprio È nello stesso menu Di Firelink Esatto L'hanno fatto talmente bene Il backup Che addirittura È nello stesso menu Bravi Ok Tombe dimenticate Da F Bene Perché avendole abbandonate Nella mia testa era Siamo arrivati fino in fondo E siamo andati A quelle vere Invece no Godopoli Godopoli ragazzi Al solito Bimbi grazie per tutte le sub Che piovono Siete incredibili Grazie Grazie È stupendo il vostro apprezzamento Di quello che succede Vai Qui c'è il ricettacolo delle palle Quindi dobbiamo andare di qua No aspetta Di qua Esatto Dobbiamo andare dritti Oltre il ricettacolo C'è il portone Ecco infatti Ora finalmente sei libero Dai secondo me è perriabile Mario Ha voglia se lo è Però no Non si perria così Si perria Sono ancora a giocare a questo gioco Secondo voi? No Fuoco Non è vero Non è vero Mamma mia Sono cattivi Sono morto Sono spacciato Sono spacciato Beh uno però va ammazzato Se no questi come facciamo? Ok Variant chad By me Ok Ok L'altro va perriato però Eh dai Vedi Vedi che ancora so giocare A questo gioco Eh Dai Dai Rialzati Devo farti il sacro perri Non gli ho fatto reposte Ma non importa L'importante è il perri Scusate Punica da guardiano della cripta L'abbiamo mai droppata? Forse no Forse no No Peti Tunica Logora e marcescente Indossata dai guardiani Della cripta Della cattedrale Delle profondità Ah Il compito dei guardiani Consisteva nell'eliminare I risorti Che infestavano I terreni Della cattedrale E infatti Li abbiamo trovati Poco prima Vi ricordate anche Di quel casino Eh Di Zombie Vernificati I loro abiti Sono putridi Coperti di sangue E mucillagine Dopo un compito Si disgustoso Che ci fate qua? Cosa dovevate ripulire? La stessa cosa Vi hanno mandati qua A ripulire Lo schifo che stava Nascendo per la stagnazione In teoria Diciamo che Quello che ti ho detto Dieci giorni fa È come questo luogo Avesse veramente Uno strano mix up Di tante cose Tempi E momenti Vedrai È vero Cane Dobbiamo bene Esplorare tutto qui Perché c'è anche La zona Della Della lucertola Di palle La lucertola Quella Cristallosa Quella è un altro cane Vivissimo Tra l'altro Ma che c'ha in bocca? Ok Noi La lingua Penzoloni Guardalo lì Che brutto Ah sono tanti Però aspetta Sono tanti Tanti Piano piano Eh Piano piano Il cazzo Porca miseria Delle tele Body bloccatissimo Sì no Questa è terribile Questa è terribile No Si fa il sopravvivo Non preoccuparti Basta fare Eh La tattica E si vola Ragazzi E si gode E adesso C'è Francone No Abbiamo uccisi tutti Andiamo prima A Lucertolopoli Bravo Allora Forse non c'è Perché pensate C'era un'area Da non fare Che dice Torna indietro La prima volta Quindi forse Se l'hai già fatta Non c'è qui Perché in realtà È lo stesso posto Però Facciamo una sippatina Direi In questo caso Non troverai sicuramente Gundyr Che cazzo è quella roba È un'altra lucertola Invece Però è qualcosa Sì esatto In quel caso Non troverai Gundyr Se avessi ragione Ma invece la lucertola è lì Quindi troverò anche Gundyr Eh Oh no Oh no Oh Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Una alla volta Ti prego Ma Cos'è quella roba Che gli Ah ok Non è solo un effetto Di luce brutta Esatto Ah sì sì Perché è l'ombra Del mio basso Ok Metodo tortisiano Amici Metodo tortisiano I'm in danger One at a time One at a time One at a time Vieni qua One at a time One at a time Ok Ok Via E dai Stunnati Bastarda Ok vabbè And now we do the ada And now we do the ada Ok 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 Tu vai Ok Eh no Però vogliamo metterci anche un po' di stile Perché ormai siamo giocatori diversi Rispetto al passato Quindi facciamo anche un po' di No ho sbagliato Il range No 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 Ok adesso si guarda Guarda che stile Mamma mia Weapon art su weapon art Ragazzi Ragazzi Eh ragazzi Che ci si deve fare La La classe Non è acqua Del resto È Estus Non c'è niente però qua Molto Elden Ringico Sono d'accordo ragazzi La Elden Ringed City E Credo di poter serenamente levarmi dalle balle Ma per sicurezza Fatemi fare un ultimo controllo Che lo scrupolo non è mai troppo Però in teoria non c'era niente In questa prima versione della mappa Non c'è niente Manco La prossima volta Sai come mi sono chiamato io Nella nostra Run veterana di Pokemon Come ti sei chiamato Water Enzo Ah si me lo avevi detto Me lo avevi detto Si water Sono water Enzo Perché Giustamente Water Enzo Fire Enzo E ora invece siamo lo starter Diverso da Fire Enzo E poi c'è Grass Enzo Che è quello Verba Allora Dovremmo aver fatto No non è Erbenzo È Grass Enzo Sono stato invaso da Cream Hild Figlia del Cristallo Nuova questa categoria Eh si Sono gli eretici di cui parlava l'anima di Oseiros credo Potrebbe decisamente E quindi gli archivi cosa sono? Firelink Shrine? Mmm Non sembrano proprio archivi A meno che non lo fossero in passato Magari si sono stati Eh ma quello intendo Eh potrebbe Magari troverai Mamma mia Ma è incazzatissima la ragazza Oh No 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 Eh porca troia No ragazzi Ragazzi Eh arrabbiata Ok Ok mia No Ok Hai tanta vita Però Sei anche Comodamente vicino al precipuzio Ciao Nice Mi hai anche ridato delle Estus Quindi bella Aspettate scusate Devo un attimo Assertare la dominanza Ok posso andare C'erano dei bivietti secreti qui Che dovrei ritrovare Esplora esplora Non ricordo dove Allora No Veniamo da giù Fatemi controllare bene Tutto quanto lì in basso Ma qui non c'è niente Da là Quindi possiamo andare avanti E qui sotto E qui sotto potremmo fare Esatto Esatto esplora 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 C'è da dire che Contrariamente a quanto mi aspettassi Anche le tombe dimenticate Sono Strappate alla terra Esatto lo so Semplicemente Questo primo Stato delle cose Era dovuto alla stagnazione Replicato Anche nella versione pulita Di inizio Questa cosa Vedrai che Rileggendo certe descrizioni Che hai già trovato in passato Per quanto secondaria Adesso con tutto questo trascorso Ti aiuteranno A comprenderlo Perché Ultra estinto Ragazzi Ok Qui ho fatto tutto Ha droppato? No My impression Via Loro fanno schifo Proprio come all'inizio del gioco Però fanno forse Più danno Questo ora mi ha colpito Sì no no Sono un po' più forti Ma in realtà Forse nemmeno Sono più resistente Sono più Sono più resistente Ok Maestro spadaceo Oddio lui Sì C'è Sekiro Sì 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 Ma lo devo evocare No 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 Sennò Gundir diventa Turboleso Aspettate Perché c'era una Roba Sulla quale saltare Qua sopra Mi ricordo Quindi datemi un secondo Intanto vediamo se Miyazaki Ha fatto il furbo No E qui? E qui Miyazaki? No E qui? Il Miyazzo? Niente Allora andiamo sopra Dobbiamo fare il giretto E poi c'è un butto Era una tomba con un item Se effetto il corretto Si ricordarmi Ed è così Benedizione nascosta tua madre Era nascosta anche tu Mi piacerebbe Sì esatto Allora All'Otrick si trovò Una tomba abbandonata Un luogo oscuro Ove riposano i guerrieri Senza patria Ora so qual è Fanculo Solo la regina Si premurava Di augurare un buon viaggio A queste anime perdute Fino a lasciare Anche quell'anello a me Beh Ho visto tutto qui Posso andare Allora Sei d'accordo? Fermati sull'uscio Cerca di vedere L'arena L'arena Vedi per caso Gundyr? Vedo solo tanta morte Non vedo Gundyr Sì lo vedo È nella stessa posizione Dell'inizio del gioco Ok 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 Visto che comunque Canonicamente P e F stanno sempre insieme No? Sì Ecco Ecco Bisogna Non dobbiamo dimenticarci Qual è il vero cuore Di questo rapporto Agli inizi Quindi Immaginati questo Tu hai P accanto Che vedete insieme Ovviamente Entrambi Entrambi Assolutamente entrambi Piuttosto turbati Piuttosto curiosi E sull'attenti Sì Però Sorride 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 Ti fa A F gli dice Proprio Gli fa la domanda F ricordami Quanto ti pagarono Per buttarti Fra le fiamme? Quanti anni? Circa 200k 200k? Sì Sì o meno Bene Ok Interessante Ascolta Vuoi darmi qualcosa? Vorrei darti Altre 200.000 anime Ma solo se riesci a Buttare giù di nuovo Quel bestione Attraverso danni Solo da Perry Quanto mi dai Se lo faccio solo Con la katana 300k Ok Forse è per questo che hanno Duplicato questa tomba Solo per farmi tornare più forte E farmi guadagnare 300k E sia Stai a guardare P E preparati a piangere Con quei 300k Ci compriamo solo De cotti Sappilo E se dovessimo scoprire Dovrei offrire io Sì assolutamente E se dovessimo scoprire Che c'è da vincolare Per forza Ci ubriachiamo davanti Alla prima fiamma Ci sto Li voglio quei 300k Non è a Frostry No no certo Lo so Leggi il nome Gundir il campione E' lo stesso in teoria E' il giudice il primo Ah il giudice Corretto E non lo hai liberato tu No Si è liberato da solo Non aveva La spada del falon Lancia No Quindi nella versione Del backup E' dopo In teoria Questa forse Questa forse non si può parriare Sai Perché salta Quasi 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 Eh solo che ho finito il mana Sono venuto qui quasi senza mana Me ne sono ricordato dopo Bello Quello era giusto Ti ha un po' fregato l'angolo Quasi Yes Yes Bravo Troppo presto Troppo presto Uh Perché ancora non ha ceduto Completamente all'oscurità Si potenzia e basta qui Eh Esatto Sorpresa Immaginavo Mi stavo chiedendo Come avrei potuto Perriare il verme Infatti Col calcio Mi ha ammazzato Va bene Va bene Siamo arrivati a metà vita Senza mana della katana Va bene E non solo La fase 2 è ovviamente Una trappola sorpresa E' un mostro E' un mostro Figo 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 Sono contento Eh Non c'erano altri falon Mi sa che l'ho missato io C'era un altro falo Eh Sì c'è il falo Sì 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 C'è il falo No mi sa di no 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 non c'è Non c'è ancora Infatti no no Non c'è Non c'è Non c'è Eh vabbè E allora Rush Sì 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 Rascino Rascino Che tanto è easy Rushomon Che figa Che figa sta fight solo perri Sono pronto All'enja Let's go Eh dobbiamo fare prima katana Finchè non finisco il mana Poi una volta finito il mana Eh si va di perri scudici Aia Però non avevo neanche tutte le estus Insomma No ma infatti Ma poi non è mica Non è easy Anzi Ero però abbracciato Ero però abbracciato No questa Secondo me Non si può perriare Perché prima Mi è sembrata Di fare L'esecuzio Del perri Perfetta Proprio Eppure No Colpa mia Qui No Di nuovo Vicinissimo Sai che questo forse Mi viene meglio con lo scudo Probabile Sì sì Assolutamente Ok ecco il primo Troppe estus Però Fa paura Yes We're dancing No Per poco Questo era buono Non avevo il range Giusto Eh il primo Non è andato Ma avevo capito Che sarebbe entrato Il secondo Così E ora fase 2 Non so se quella cosa Fosse perriabile No pugno È spaventoso eh Ho scommesso tutto Su quel perri Hai fatto bene Hai fatto bene Hai fatto bene Hai fattibilissima Questa non è una sfida difficile Secondo me Fattibilissima Fattibilissima Peccato perché Questa era fattibile Cioè qui sono stato Gridio Pensando Questo perri lo faccio Perché potevo tranquillamente Non so se vedete Le estus Ne avevo 10 Sì sì Era ancora ben lontano Da essere preoccupato Più hai chance Di esplorare il combattimento Anche con un po' di rischio Meglio è Chissà se è un modo per poter C'erano degli anelli Per irreposte? Purtroppo Non hai ancora trovato Il leggendario Anello del Calabrone Per i colpi Critici Non si vedono le estus Allora aspettate Che mi sposto un po' Appena entro da Gundyr Datemi un secondo Ecco qua Adesso dovreste Vederle meglio Ah certo Se c'è una terza fase Diventa più un casino Però Questo me lo sentivo No Troppo presto Si può perriare anche il salto In realtà Yes No Si è girato Uh peccato Delizioso quello era Sì Via Sta Sto a fondo di merda Eh Eh Bello Bello Il valore di un'arma più 10 Yes Stupendamente Due perri de fila Adesso Fasa Sì Ah cazzo Bastardo Se gli stai vicino Fa quella roba Eh Devo riprendere il controllo Devo riprendere il controllo Ok Quando nella fase 2 È difficilissimo Riprendere il controllo Troppo presto Troppo tardi Ah Ci aggiunge una spallata Da qui Uh Che treno Ho avuto paura No ma Lo è spaventoso Nella fase 2 Che bestia Mamma mia Che bestia Che è Mi ricredo Non è semplice Questa sfida Ricordati Ricordati Che la scommessa È di fare danni Attraverso i perri Non per forza Con i riposte Quindi mentre è stordito Se vuoi colpirlo Mentre hai in ginocchio Puoi farlo Ok Due volte Puoi dargli due o tre colpi Tre massimo Perché è il contrattacco Ma è una scelta strategica Anche Siamo quasi Guardalo Guardalo Nice No ci arrivi Eh coglione Ci arrivo anch'io Pigliati questo Dagli forte Guarda che belli Questi perri veloci Go go Via 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 No volevo perriare il pugno Eh no Pugno e calcio Ti piace questo Gundyr Guarda 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 Ciao Yes Con la katana E quindi è tuo 300k F Yes P sgancia P sgancia Mi voglio sbronzare P Che soddisfazione Yes Vorrei farti notare Una cosa molto figa Stavolta Ha droppato l'anima Sì La prima volta non l'ho affatto Non l'ho affatto Ha droppato la spada Perché non è reale Quel mondo lì Ne riparliamo Ok Me la posso leggere intanto? Devi goditela Falcione da cavaliere nero Questa roba è nuova Altro che se Questa è nuova Allora Una cosa alla vostra Ma è nuova in Dark Souls 3 Sì sì certo Allora Quindi ovviamente Scusatemi un secondo Qui Gundir il campione Non il giudice Perché qui non deve giudicare Un cazzo di niente Non deve capire Se io sono In grado Di essere Il champion of ashes Che Firelink cerca Gundir Nella versione Di Firelink shrine Pulita Ovvero delle tombe pulite Deve fermare Tutti quanti I campioni delle cenere Che fanno schifo E non avrebbero Nessuna speranza Di portare indietro I chissoni Ci arrivo solo adesso Adesso penso che Più che gettarti Nell'orda Delle idee Leggere sia una buona idea Per trovare la soluzione Certo Un tempo un campione Arrivò tardi alle feste E trovò ad accoglierlo Un santuario Senza fuoco E una campana Muta Un tempo un campione Arrivò tardi alle feste E trovò ad accoglierlo Un santuario Senza fuoco E una campana muta Quindi è dopo Cioè È incredibilmente interessante Scoprire la cronologia Piano piano Da questa descrizione Sembra che Innanzitutto Questa versione Di Firelink Esista da una vita Ok? Perché è un tempo Ma parla di un santuario Senza fuoco E una campana muta Direi che È perfetto Per descrivere il luogo In cui siamo Il santuario Non penso che abbia Il fuoco qui E la campana Penso che non possa più suonare A questo punto Perché è già stata suonata Gundir è un campione È un champion Of ashes In teoria È un campione Bravissimo Esatto Ma è arrivato tardi Si è svegliato E non c'era più nulla da fare Si c'è scritto Una tempo Ragazzi Però Qui c'è tanto 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 Allora Per tutto il mio speculazio Odierno Ho pensato che questa fosse Una versione precedente Quindi il backup Fosse stato creato dopo Questa marciscienza In realtà Non è sbagliato Pensarlo Però No Non è ancora sbagliato Pensarlo Capito Però Questo significa anche che Gundir è come me Gundir si è svegliato Perché è un campione Quindi champion of ashes È un campione Arriva Ma il santuario È già finito In realtà È come se Gundir Si svegliasse due volte Nel senso Si sveglia una volta In questa versione Di firelink Si sveglia anche Nella versione Pulita Lì però viene bloccato Con la lancia E diventa una prova Per i campioni Ti dico una cosina Qui c'è Qui c'è Qui c'è da Da speculare Qui ci sono anche Delle delicatezze Che andando avanti Nell'aria Ti potrò smussare Per ora Non voglio interagire Perché sarebbe Veramente troppo Qui ti dico tre cose E hai il puzzle completo Non posso È presto Però Tu quando lo hai sconfitto Hai ottenuto A schermo Il classico Erede del fuoco Giusto Quindi non era un unkindled Corretto Quindi Non si è svegliato Hai ragione Lui era Un campione Del vincolo Del fuoco Non Un champion of ash Quindi non fa parte Del risveglio Che ho ottenuto Solo nella Firelink Buona Giusto Esattamente Lui era un campione Del vincolo del fuoco E allora A maggior ragione Troppo tardi E in realtà Potrebbero aver creato Quella versione Dove ci siamo svegliati Noi proprio Dopo questo Troppo tardi Cioè Gundir Potrebbe essere La dimostrazione Che era Troppo tardi Per sfruttare Questo luogo Ma in realtà È comunque Aperta anche La speculazione Contraria Cioè Potrebbe anche Essere Che invece È La Il luogo In cui mi sono svegliato A essere Il passato E questo è il futuro Ma mi chiedo Allora perché sono morto Qui Nella mia stessa tomba Eh In teoria Quell'indizio Spinge molto Sul passato Quell'indizio Quale ti riferisci? Il tuo corpo Spinge molto Sul fatto che Questo sia il passato Intendi? Sì Eh sì Sono d'accordo Cioè Sembra proprio Questo Il passato E quella Una versione Alternativa Creata dopo Una versione Nella quale Io invece Mi sveglio Diciamo che Per ora Ti ha lasciato Solo l'anima Però ecco Vai 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 Cara In chat In chat Ma come arriviamo In questa versione Da un semplice corridoio Da un semplice corridoio In realtà È l'indizio Questa è Temporalmente Collegata Al resto Della mappa E l'altra Che è speciale Allora ascoltami È complicato Hai ragione sempre Hai torto sempre È vero L'ho avverto Esatto Qui sei In un bel Mappazzone Ma per avere le risposte finali Dovrai Avanzare Non voglio Dirti nulla Che non sia Introduttivo Quello che posso dirti è È impossibile Per ragione Attualmente Perché tu sei arrivato qui Ma qui è buio Pesto Là dietro no Cioè Non può essere collegato Temporalmente In maniera normale Perché sei immerso Nell'oscurità più nera Quindi Non c'è più neanche L'eclisse Sei completamente In un'area Alienata Come si potrebbe Forse considerare Il santuario Buono Come lo chiami tu Però bisogna vedere Vai a vedere C'è l'eclisse Nel santuario buono E allora non è così Scollegato Se non c'è Sono entrambi scollegati Andiamo avanti È una situazione In cui bisogna andare avanti Esattamente C'è da dire che L'anima Di Gundir Nella Tomba Nella quale si sveglia Effen Non c'è Come scusa Cosa c'è? L'anima di Gundir Non c'è No Non c'è E infatti Come l'abbiamo chiamato Fino a quel punto Golem E in realtà Questa è invece L'anima Una E ora andiamo più avanti È un indizio Che invece Punterebbe Sul In qualche modo Hanno semplicemente Ripulito Ciò che già c'era L'anima è qui Ma il corpo di Gundir Viene recuperato Dopo che F O chi per lui Passa e ne prende l'anima Esatto E diventa un golem Sì Viene utilizzato Viene Diciamo Rimaneggiato E quindi Allora basta Per me L'anima è l'indizio definitivo Viene per forza dopo Secondo me Quella roba lì O è il futuro È una versione alternativa Però coesistendo È molto strana Cioè nel senso Il santuario Di gameplay Dell'inizio È nel futuro E questo è il passato Sì Ok 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 Esatto È una cosa Decisamente logica Perché Tu Perché io tolgo l'anima Alla manus L'ho già tolta Quando io sono arrivato All'inizio del gioco Non sapevo di essere stato io A privare Quella roba dell'anima Trasformandolo in Gundir Non più il campione Privato dell'anima Ma il giudice Per me stesso Tra l'altro Sì tu sei Colui che Uccide Gundir Il quale Per farsi giudicare Dal Gundir Corpo Megolem Esatto E armatura Vengono rimaneggiati Come golem Il che è bellissimo Perché da un punto di vista Narrativo Spiega Che F Non è speciale Ma Riesce a battere Gundir Perché l'ha già battuto È una figata Questa cosa È fighissimo Cioè F Batte Pensate C F batte Gundir Perché lo ha già battuto E quindi viene Giudicato Da un nemico Che in realtà È già caduto Per bano suo È quasi come Reminescenza cosmica Lui sa già come muoversi E ora possiamo Catturare Shaming Una cosa che Il maestro Non capirà Un giorno capirà Ok Ok Bellissimo Vai 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 Eh ragazzi E ragazzi Qui però Il mio pisellino Che bello Da una parte Non vorrei aprire mai Questa porta Mamma mia Ti capisco Mai Cioè Una volta che l'avrò Aperta godrò Però poi Non potrò più Cancellare dalla memoria Questo attimo Però È un po' Ecco Adesso capisci un po' Cosa vuol dire Aspettare Elden Ring Cioè Quante porte ci saranno No? Di quel tipo Mamma mia Esatto Esatto Quante binocolate Pazze Che faranno scoprire cose Esatto Altrettanto pazze Mamma mia Vado Vai Ah il falcione Il falcione Se si temporeggiamo Ragazzi Tutto pur di non Aprire sta cassa di poste Allora Fatevi vedere Il falcione Dov'è Il falcione Eccolo qua Falcione dei cavalieri neri Che tra l'altro È coerente Con quello che ho detto Io prima Se questa è una ristrutturazione Del finale di DS1 Che i falcioni Siano qui Ha il suo senso Comun Falcione dei cavalieri neri Che vagano per il mondo Usato nella lotta Contro i demoni del caos L'attacco speciale Di questo falcione Sbilancia pesantemente Il nemico I cavalieri Dovettero infatti Affrontare nemici Di dimensioni Enormi Tra l'altro Visto che vi leggo in chat Mi viene In mente Di dirvelo Lo abbiamo già detto Nelle storie Il maestro Ha ricondiviso Però ci teniamo A dirlo Anche qui in diretta Davanti a un sacco Di persone Non so quanti Sono di là Qui siamo 4 e 6 Secondo me Sì qui siamo 3.500 Quindi Cioè Il godopoli Ok Il godopoli Esatto Allora Ragazzi abbiamo deciso Di fare la prossima puntata Standard Di venerdì Perché Colpa nostra Per via dei tanti impegni Vi abbiamo confuso Esatto Un po' le idee Abbiamo visto Che praticamente Ormai ogni giorno Ci chiedevate Quanto c'è Quando c'è Dark Souls Quanto c'è Dark Souls Quanto c'è Dark Souls Perché negli ultimi tempi Abbiamo cambiato Continuamente Il giorno Visto che una volta Ero impegnato io Una volta Era impegnato Mike Quindi abbiamo deciso Settimana prossima Resetta Sì resetta ragazzi Domenica Venerdì Domenica Venerdì Domenica Così smettiamo Di rimanere Sbilanciati Ovviamente Ricorda Ferdi Se non succede niente Questa settimana Lato Pokémon Ma mi auguro di no Perché se no Veramente Mi ci ficco di nuovo Nella tomba di F Perché non ne la faccio più Ok Bene Come pare Che stia per succedere Che vuol dire Ferdi Mamma mia Non me lo dire così Vabbè Scrivetemi su Telegram Ok Per ora Sembra la stessa Qui dovrebbe esserci Una dead end Ma andiamo prima di qua Qui ci dovrei trovare Il tizio Che sta Appeso E invece Però era qui No forse era più Poco 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 sopra Non è neanche qua Oh cazzo Cavalieri neri Scusatemi ragazzi Ho la mandibola Troppo spessa Dovrei evitare Eh purtroppo è così Cavalieri neri Cavalieri neri Cosa siete venuti a fare qua Nell'originale Non ci sono No E non c'è Doveva essere qui Non c'è Il tizio Ciondoloni Attento i passi Di altri cavalieri Devo bene esplorare Ancora non è il momento Di salire Qui niente Cazzo che sto Ammazza Prefire Lo sentivo Camminare Da una vita Oh yeah Ma vai Affanculo Vai Gambali Da cavaliere nero Godopoli Buono Ora dopo li leggiamo E questo posto È un po' Pericolosi Un oggetto No Visto male Sì Mi sa che ho visto male Sì Questa è l'altra strada Che mi mancava Da esplorare Sono pericoloso Esatto Bravi ragazzi Sono molto pericoloso Ah Ti 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 Ok Ok E quindi adesso si sale E quindi adesso si sale ma si va a sinistra ragazzi verso il Sekiro Pazzo Vado verso il Sekiro Pazzo Qui c'è solo un burrone Ma andando più in qua dovrei Tornare verso il Sekiro Pazzo No? Se sali sì Ma tanto sicuro ci sono altri cavalieri delle palle Sicuro sicuro Niente Ne sento uno Eccolo lì Non sulle scale Bravo Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Ma che ho oggi Yes Boom L'arma più 10 Che ti trasmette il potere Sei del perri Esatto Lama del caos è morto qui lo spadaccino È doppia? Adesso La lama del caos è molto speciale Era quella che facevi con l'anima di Quellag Ah giusto L'arma che cercava Shiva Sì Una spada maledetta di origini sconosciute La cui lama è ricoperta di inquietanti strisce Gli attacchi di quest'arma danneggiano chi la impugna È come una creatura deforme Che il mondo stesso rifiuta In altre parole Il caos incarnato è la katana di Cassandro Esattamente Sì F la guarda sorridendo La riconosce Non si può entrare ovviamente Cassandro purtroppo È morto Per mano di Walnir Ciao Guarda come esplori bene Bravo bravo Abbiamo un oggetto E abbiamo anche un cavaliere nero Smart boy No È assasciato ragazzi Bastardo Dovevi morire sul colpo Eccolo Eccolo Giù Cioè ragazzi Che loro Abbiamo passato il percorso a perriare gente Esatto L'anello del calabrone Come starai notando Comunque Se c'è sia Il guardiano della cripta Delle profondità Della somma della cattedrale E l'anello del calabrone Qui si mischiano proprio epoche diverse Sì Sono d'accordo Ormai Questa è una Melma Uldriciana Di tempo Esatto Anello di Sierran La lama del signore Uno dei quattro cavalieri di Gwyn Il primo signore Potenzia Gli attacchi critici Sierran Unica donna a servire come cavaliere di Gwyn Portava una maschera La sua spada ricurva Era garanzia di morte Per i nemici del trono Pretty pog La descrizione del cavaliere Yupp Avete ragione I cavalieri neri No i cavalieri e basta Perdonatemi Erano servitori di Gwyn Il primo signore E lo seguirono fin nelle fiamme Al momento del vincolo Divenero cenere Ma vagano ancora per queste terre Il che confermerebbe In teoria Cioè confermerebbe Aiuterebbe a Sostenere l'ipotesi Della culla della prima fiamma Sotto questo santuario In effetti sì Perché diciamo che Se Lothric Si è elevata Magari si è elevato Appunto si è sollevato Anche questo santuario Però Forse sotto qualcosa c'è Cioè in realtà Questo posto sarebbe Né più né meno Del luogo dove era posato Il primo ricettacolo Di Firenze Più o meno Più o meno Però salito Sono unkindled quindi Beh sì Ragazzi I cavalieri neri Più o meno Nel senso Non sono non morti No Non sono unkindled No Cioè sono cenere Che comunque cammina ancora Però non Sì allora I cavalieri Indolte perché non sono non morti No Allora i cavalieri Sono spiriti ormai Ecco Ok spiriti Va bene Ok Oddio Che emozione Mamma mia Mamma mia Ci sono i droni Ragazzi Erano già pronti Che silenzio Ma è andato tutto a puttane Che cacchio di silenzio È evidente ragazzi Che questo fosse il primo piano Ma è fallito Io Io mi trovo in un reset In qualche modo Guardalo là Il risettacolo sul quale In teoria ci dovrebbe essere Posso schippare Prima questa raccolta Ho paura che fasi Che parta una boss fight Che parta qualcosa Fai quello che vuoi Sei libero Guardarmi intorno Sei libero Aldrich Santo delle profondità Ludleth non c'è neanche Guarda In effetti Sì I troni sono tutti qui Qui c'è Ludleth Sono uguali Direi che è inutile Andarci sopra Esatto Leggiamo almeno dietro Ludleth L'esiliato Lothric Il re sacro Ultima speranza Della sua stirpe Ebbene Alla fine Non è stata L'ultima L'ultima speranza L'ultima sono io Vero Guardiani dell'abisso Yorm Il gigante Della capitale profanata Ma quindi L'ho sempre potuto Immaginare Che Yorm Fosse lì Non ricordavo Che venisse Nominata Alla capitale Profanata Esatto È facilissimo Sfuggire a questi Dettagli Perché Eh sì Perché li leggi Ventimila anni Prima Ma io mai Cioè io Quando ho oltrepassato Alla nevia di Yorm Ero paralizzato Perché non mi aspettavo Assolutamente Yorm Eppure C'è scritto lì Il gigante Però te ne scordi Ma anche fosse Anche se te lo ricordi Che sia così Immediatamente All'inizio Non te lo aspetti È ancora viva Eh Oh Well Fancy that A lost lamb Wandereth in With neri a peep From the bell Well Thou shouldst My purpose Know What can this Old hand May provide thee To skirt The curse's grasp Tarry not For long Tis dark For now And not a soul Stirs But remember Fires are known To fade In quiet Or perhaps That captive Already Like the poor girl To skirt Tarry not Is dark Ti dico una chicca Proprio una chicca Chi è quella povera ragazza Che mi abbia La guardiana? Potrebbe Potrebbe Quale guardiana? Sicuramente Forse non la nostra Il fatto è questo La chicca che ti sto per dire Riguarda proprio Una contestualizzazione Di questo personaggio Se tu pazzo giocatore Bravo Esatto Pazzo giocatore Del New Game Plus Perché in Blind Non si fa Decidi di non parlare Mai A quella del santuario E fai il primo Dialogo Con lei Qui Ti fa tutta L'introduzione Normale E se poi Parli a quella del santuario Si accorgi Di riconoscerti già Ti dice proprio Se fai al contrario Se fai al contrario Si Confermando ancora una volta Che la mia ricostruzione cronologica In teoria è giusta Esatto Ma perché Se ci fai caso Il suo comportamento È assolutamente diverso Da quello che ti aspetteresti Lei ti ha detto una frase Che non va sottovalutata Sai già Qual è il mio ruolo qui Sai perché? Perché lei È Vincolata già Al santuario Infatti ha detto in gabbia Esatto È per quello che Te lo volevo dire Esatto Cioè è la stessa ancella Non è che Cioè lei è In entrambi i posti Quella è È un duplicato nel tempo È lei Certo È proprio lei È proprio lei Un anello decorato Con un'immagine Dell'alta sacerdotessa Aumenta la fede L'alta sacerdotessa È considerata Uno dei tre Oh Il secondo finalmente Uno dei tre pilastri Del governo del re di Lotric L'alta sacerdotessa Fece anche da balia Al principe Ed ecco perché È così legata a lui E Insomma Sta male Nel pensarlo Ormai corrotto Poi ho comprato Per affetto Ovviamente Il cavaliere Insomma Il set del cavaliere del lupo Ilmo di un cavaliere Corrotto dall'oscurità Dell'abisso La nappa azzurra È umida E lo sarà per sempre Un cavaliere sconfitto Lascio in eredità Il sangue di lupo È una missione La legione di non morti Di farron Nacque per assolvere A questo compito L'armatura dei guardiani Dell'abisso È un presagio Della loro stessa fine E beh Qui non potevamo Che immaginare Che fosse così Sembra davvero Sempre di più Un duplicato Mike Diciamo che Per forza di cose Lo sembra E tecnicamente Lo è Ma Non esattamente Manca un dettaglio Ancora Esatto Come presumi Vedrai Martello da fabbro Allora Martello Martello Eccolo qua Un martello di metallo Tramandato dai fabbri Del santuario Infligge danni Da colpo E riduce L'equilibrio Dei nemici Superando persino La guardia Degli scudi Il vero potenziale Di un martello Ovviamente Si rivela solo Nelle mani Di un esperto fabbro Qui quindi ci sono già stati Questo era Firelink Shrine È caduto Ed è Ritornato Nella forma Esplorata Da F A inizio Il gioco Te la metto Su un piano Meno Contorto Certo Perché per ora Tu sei in un vortice Di informazioni Tempo Descrizioni E mistero Se Questo luogo Come ti accennai Dieci giorni fa Quindi te lo rinfresco Un po' È Effettivamente Un'ambientazione Che è rimasta Talmente stagnata Da essere Nel buio Più totale Quindi rappresenta Un momento Sia in cui hai Eventi Personaggi E oggetti recenti Creature E così via Sia Antichità assolute Sono comunque Rappresentative Di ciò Che potrebbe essere L'era oscura Dell'uomo Certo E in questo Immaginando comunque Che Tu Visiti Firelink Shrine All'inizio del gioco Incontri La Guardiana I vari personaggi Di cui finalmente Adesso conosci anche il nome Hawkwood E Ludlet Certo Molto Semplicemente Evidentemente Questa oscurità È stata interrotta Perché questa oscurità È successa Tu stai Muovendoti in un luogo Che un tempo È stato così Ma hanno purificato Questa oscurità Ripristinando L'originale Stato delle cose E come si fa Eh boh L'hanno duplicato E Aspetta 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 Pensa un secondo A Meno Xemnas E Ensemble Bullshit E pensa più A Il rasoio Di Ockham Che stupendamente Il calore Hanno ripristinato Il calore E come si fa A ripristinare Il calore Di un mondo Che sta calendo Nell'oscurità Pensaci un secondo È sulla punta Della tua lingua È veramente Una cazzata Ti verrà da ridere Ti verrà da ridere Da morire Pensaci un momento Sei nell'oscurità Più totale Il fuoco Si sta spegnendo Si L'era dell'uomo Sta arrivando Come fai A impedirlo E a far tornare La luce Mi verrebbe da dire Suoni la campana Però la campana È muta Qui Quindi non si può sonare Vai Al minimo Comun denominatore Di Dark Souls Accendi Un falò Vincoli Qui Qualcuno Non qui Nel mondo Qui Qualcuno Infine È riuscito A vincolare Quindi Nell'oscurità Che stava arrivando E tu stai vivendo La sua fine Qualcuno qui ha vincolato Come dice l'ancella Non si muove più Un'anima Qui tu stai vivendo Una cosa molto speciale Molto rara Unica E chi ha vincolato È questo Esatto Che ha vincolato Quando Se Gundir Non è arrivato in tempo No E il mondo Stava effettivamente finendo Che cacchio è successo Qualcosa Qualcuno Someone Or something È riuscito a vincolare Esatto Accendendo il fuoco Solo qui praticamente Riuscendo a Allora Allora Creare un'alternativa Perché sono entrambe esistenti adesso Adesso Allora Sei dinanzi alla risposta Del perché sono Entrambe esistenti Quell'io che hai davanti Ti aiuterà E io ti aiuterò Perché Dark Souls 3 È un bastardo È poco chiaro È molto contorto È tradotto male È Dedica tutto se stesso Al conoscere molto bene l'uno Non è un pregio Però alla fine tutto torna Ragazzi non può Perdonatemi Non può essere Ludlet in teoria Perché C'è già il suo trono qui Quindi lui era già contemplato Dentro questa situazione In teoria Nel pratico Se è stato Ludlet Significherebbe che Ha potuto vincolare due volte Ma in realtà In teoria nessuno può vincolare due volte da solo Perché è il motivo per il quale esistono tutti questi troni Il vero pasticcio Il vero Miazzacoso bordello È che tu non sei davvero Nel santuario Di quando il tempo era finito No Certo Hai diverse influenze Che potrai anche trovare qui E vedrai che una volta finita l'esplorazione Ottenuti certi dialoghi Tutto torna Attraverso noi Me e te A un ordine Ci sei molto vicino Prosegui pure Prosegui pure Frammento della spada A spirale Non avevo trovato la spada a spirale Proprio su Gundir In teoria Tu hai trovato Una spada a spirale L'hai trovata e l'hai utilizzata Per accendere il falò Giusto Questo invece è un frammento Lo trovi come consumabile Dove lo trovo? Come consumabile, ok Eccolo qua È un osso Infinito È la piuma di questo gioco Giusto? Bravo, sì, bravissimo Touche Un frammento Della spada A spirale Dei falò Utilizzata oramai Molto tempo fa Riporta All'ultimo falò Usato per riposare O al falò Dell'altare del vincolo Può essere usato Più volte I falò Sono legati Tra loro In maniera irreversibile Conservano questo legame Anche una volta Esaurito il loro scopo Quindi qui Abbiamo questo frammento Un frammento Adesso un'epifania Non ti farà dire Oh no no Ti dirà Ok Era chiaro Ma grazie di averlo evidenziato Ma devo evidenziartelo Perché è cruciale Molto più di quanto Molti in chat Sospetterebbero Leggi l'ultima frase Del frammento Ti posso fare una domanda Tutte quelle che vuoi Ma non può essere Che ho vincolato io Potrebbe Cioè Non può essere F Quello che ha vincolato Potrebbe essere F Quello che ha vincolato E poi si sveglia Se non che Ti sei trovato già come cadavere Hai ragione Però ho l'anello Capito È per questo che ho pensato Eh lo so Non è che lo faccio qui Il fatto è che Il vincolo Non sappiamo Dove si può fare Eh sì però Se ho ammazzato Gundir Creando il Gundir Del passato Che in realtà è del futuro Ma ci siamo capiti In teoria posso essere io A vincolare In teoria sì Per ora è tutto In un grande Infatti mistero cronologico Sei assolutamente E non solo In ogni caso Qualcuno potrebbe vincolare Ora Per ieri Che è domani Mannaggia il cazzo Di Miyazaki Però Non so se avete capito Quello che intendo dire Potrebbe avvenire adesso Quel vincolo Che permetterà A me stesso Di svegliarmi In quella versione E in teoria Questo significa Che ogni volta Che qualcuno vincola Il tempo Va a puttane Ancora di più Quando qualcuno Vincola Il tempo Torna a scorrere È il contrario Però vedi C'è un problema Lothric È un paese È un posto di merda Allora Adesso ti dico due cose Allora Così raggiungiamo Un po' Una quadra Che non ti dà risposte Ma in questo caos assoluto Guarda Sei veramente Nel posto In cui nessuno Già mai capito un cazzo Quindi siamo in un momento Ci mancherebbe Stiamo facendo la magia Piano 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 Ci saranno anche dei dialoghi Importanti Quindi figurati se sei pronto Però Allora Passo 1 Spada Frammento a spirale Sì Rileggi la parte finale Che hai già letto È niente di catastrofico Ma Ad alta voce I falò Sono legati Tra loro In maniera irreversibile E conservano Questo legame Anche una volta Esaurito il loro scopo Molto bene Una volta spenti Una volta spenti Una volta che la guardiana È morta Il falò Non si può più Alimentare Il loro frammento La spada Spirale Mantiene il loro scopo Questa è una cosa cruciale Per farti Ricordare Due dettagli Il primo È il frammento Di spada spirale Che trovi all'interno Del primo teletrasporto All'Otheric In quel piccolo Vesso Corretto Nella prima stanza Quindi può essere utilizzato Anche lontano Da un falò È una sorta di legame centrale In cui se un tempo C'era una fiamma Quella rimane lì Il legame è eterno Il legame È eterno Il legame È eterno Il motivo per il quale Quando tu hai aperto Il menu del falò Avevi Firelink shrine E tombe dimenticate Nella stessa linea È che il legame È eterno Va oltre il tempo Esattamente Esattamente il motivo Attraverso il quale Riuscivi in Dark Souls 1 Con il Lord Vessel E il potere ottenutovi Ad andare ad Ulazini Nel passato Non è solo gameplay Ok Tu con i falò Tu con il legame Dei falò E in generale I falò Sono legati indissolubilmente In qualunque tempo È un È È Simile alla classica Cosina Che abbiamo discusso Ogni tanto Ma allora vuol dire Che vincolando Luci cose Nel deserto Sì Esatto Ma allora vuol dire Che vincolando Franco Tor Franco il vincolatore Permette di Tornare Alla versione Ancora non marcia Di quel falò stesso Ma allora Però questo allora Collocherebbe nuovamente Nel passato E non nel futuro No 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 È Stanza che io ho visitato È un po' più semplice Rispetto Al funzionamento Del vincolo È un po' più magico È uscito un po' Dal buco di culo Rispetto a Tombe dimenticate La questione è questa Nel momento nel quale Tu vincoli La luce distrugge La stagnazione Questo significa Sono d'accordo Che il tempo diventa lineare Non hai più influenza Dal passato A livello spirituale Oggettistico Di Phantom Non vedi più Però non cancella Questo momento Perché questo momento È ancora qui Questo Ecco Questo momento Nasconde Nelle descrizioni Il cuore Di quello che tu odi Del vincolo Ancora non sai cos'è Ok Non sai cos'è Ti farai incazzare Come Mamma mia Non solo F C'è un grosso segreto E non viene mai narrato Perché questo nel gameplay Nell'esperienza dell'avventura Può essere anche un dungeon Un segreto magico Che figo Chissà che c'è Boss extra Ma in una descrizione C'è Roba In quella descrizione Ti farai incazzare Come una faina O una iena Ok C'è la risposta di tutto Che però è talmente grave È talmente sporca È talmente catastrofica Che deve essere stata Assolutamente sigillata E nascosta da Lothric Per questo è dietro Un muro illusore Perché altrimenti Si sarebbero scoperti Sarebbe successo Sotterfugi del vincolo E Esatto I malus che porta Perché come se Esattamente No Sotterfugi Malus Polvere sotto il tappeto E soprattutto È bravo Si sarebbe potuto Cominciare a immaginare Che Nonostante la civiltà La floridità Della specie umana Come cultura E il mondo Con la luce Abbia speranza Questa era oscura Ha un potenziale E non deve essere Assolutamente mostrato Questo potenziale Perché se no Ovviamente Nel tipico Stile del vincolo e fuoco Chi mi caga più Se scopriamo Che c'è questo potenziale Però Detto questo Perdonami Se torno Qui sopra Ma vivo La vostra frustrazione In questo momento Nel senso Che questo posto È una supercazzola Tremenda Ma Voglio dar Lui un ordine Vai In teoria Facciamo finta Che io vincoli Ok Sono io Sono F Vincolo Anzi Togliamo dall'equazione F Perché F si è trovato morto Quindi Vincolo a un tizio Vincolo a un tizio Vincolo a un tizio Qui adesso In questa situazione Qualcuno è andato Oltre Gundiri Il campione Lo ha battuto È arrivato in fondo È trovato la culla Ha aperto I gates To the vincolo E ha vincolato Non può essere Prince Lothric Perché Prince Lothric È affanculo Qualcuno però L'ha fatto Ok Una volta Fatta questa cosa Il mondo Il mondo Questo Questo punto Di mondo Torna a essere Un minimo lucente Sì Torna a essere Un minimo brillante E quindi Il tempo Ricomincia a scorrere Yes Ma se Questo luogo Che io sto Visitando È ancora qui Nel momento In cui il vincolo È già stato Esatto Bravo Significa che Contemporaneamente Il vincolo È come se Creasse Una pausa In un'espansione Dell'oscurità Che però Presto Tardi Continua a ritornare E a ricreare Quell'esatto luogo Esattamente E come dici Però qui c'è Soprattutto Lo zampino di Lothric Non persona Ma regno Cioè questo luogo Questo tempo È stato Proprio Bloccato Doveva essere qui Non doveva mai più Essere raggiunto In nessun altro modo Che non fosse Oltre il permesso Del re E scrive Staffalmatto Non è un'alternativa È il passato Ci puoi arrivare Perché la fiamma Praticamente non c'era Il tempo era distorto No Secondo la ricostruzione Di Michele Non è il passato Questo Allora No no Aspetta Questo dove ti trovi Oh ma di che stiamo parlando Soggetto Credo Siccome hai detto Non è un'alternativa Penso che parli del primo mondo Perché se parliamo di questo È ovvio che sia il passato Questo è chiaramente il passato Con influenza E però Se mi ha detto Non è un'alternativa Credo rispondesse a Quello Esatto Però ha ragione E ha ragione Nel senso Sì Quando tu lo definivi Un'alternativa Ti sbagliavi Non è una duplicazione Però lo diventa Cioè lo è Ma non lo è Lo è a causa Dell'influenza di Lothric Nel sigillare E si va bene Però è comunque Lo stesso posto E Non è il passato Quello non è il passato Quello è il futuro Quello è il futuro Per forza Per forza È il futuro post vincolo Che ha ripristinato il tempo Ma guarda che se il futuro Non è speculazione Lo vedrai tra poco Cioè non è un È il futuro Ok Però se è il cazzo di futuro Perché esiste anche Ancora il luogo del passato Perché c'è talmente Tanta oscurità Che la stagnazione Lo riporta Lo riporta fuori Esattamente Ecco E quindi è come se Si creassero Delle ghost image Del mondo Non si sa più Assolutamente Sì Allora te la metto così Ti farò venire un brividino Ok Ok Non è nulla Che sia mai stato raggiunto In nessun epoca In nessun istante Di Dark Souls L'unica chance Sarebbe che Dark Souls Fosse autoconclusivo Si sapesse tutta la Consapevolezza di oggi E che Firenze Non fosse stato interrotto Dal vincolo di Sabacus e Ko Ok Ok Sì Il Dark Lord Vive un'era oscura In cui Non si tratta di stagnazione Adesso È un casino Adesso è un casino Perché ci sono le profondità È tutto stagnato Ma in un contesto Nel quale il fuoco Si spegne in maniera naturale Non viene forzato In una sorta di Accadimento terapeutico Pazzesco Nell'era oscura Non si tratta più Di vedere un segno Nella stessa mappa Nel passato e nel futuro Di vedere un phantom Semitrasparente O di trovare un ricordo Un eco Un'immagine O aiutare Henry A sconfiggere Aldrich In un'altra After image Del suo tempo Che però non è reale Nulla è reale Nella stagnazione Tutto è un eco Perché il tempo È uno solo Semplicemente Si accumula Come uno stagno sporco Che ha smesso di scorrere Nel fiume del delta Cioè Ora Quello che succede Nella vera Era oscura Potenzialmente È speculazione Però è dedicata È legata Al fatto che Come ha detto Cath Tutto Non è più Quello che si vede Nel tempo distorto Nell'era oscura Anche la morte Non esiste più A quel punto Certo Tu hai Come Dark Lord Il controllo È quello che ho fatto Con Elion In Dark Souls 2 Per Cassandro Tu sei in grado Di richiamare Mondi Vite Momenti E anime Perché tutto ormai È nel controllo Del signore oscuro Non più un stagnato Ma nel totale Dominio Di Non uno stagno sporco Ma di una bolla nera Che racchiude tutto Significa che tu potresti Tranquillamente Chiamare Guine E parlarci Certo Cioè No ma guarda Credo di aver capito Mentre parlavi Mi si è flashata Un'immagine Che provo a spiegare A te E ai ragazzi Collegati Per cercare di dare ordine A questo casino E Nel caso in cui L'immagine Ti dovesse piacere Gli diamo il bollino Del Ok abbiamo capito Immagina il mondo Di Dark Souls Come un'ampolla Ok Sì Un'ampolla Quindi che contiene Liquido È importante Ragazzi Tenere in testa Il fatto che sia liquido Il contenuto dell'ampolla Perfetto Nel momento in cui In un punto Di questa ampolla Che raccoglie Tutto il mondo Di Dark Souls Qualcuno Vincola Ok Il contenuto Del vincolo A livello proprio Spaziale Esce da questa ampolla E diventa di nuovo Invece una linea retta Perché ha un tempo C'è di nuovo la luce Quindi c'è di nuovo Un passato Un presente Un futuro E la linea temporale Si ripristina Ma in quanto La stagnazione Fa parte della natura Da quel punto In cui il vincolo È stato effettuato Continua a colare Il tempo Dentro l'ampolla Quindi praticamente Questo posto Diventa Lucente Perché c'è stato Il vincolo Ma la sua immagine Di sé Ancora oscuro Ricola nell'ampolla E noi ci troviamo Dentro l'ampolla Immaginati questo Ci sei vicinissimo Capito? Il bollino appare In questo istante Immaginati Che tu stia Versando Questo liquido E che sia sempre Stato versato In un canale Che a un certo punto Con la stagnazione Ai suoi estremi Si piega E crea l'ampolla Sì Sì Ok Stiamo dicendo La stessa cosa Purtroppo qualcuno Non ha capito Invece ancora in chat Provo a rispiegarlo Perché alcuni hanno capito Altri no E me ne rendo conto Non è semplice Puoi farlo con la mano Se tu apri Il palmo della mano Verso l'alto E immagini qualcosa Che scorre sulla mano O sul polso O sull'avambraccio Ok E poi immagini Che la mano si chiude E crei l'ampolla Non possono non capire Ok Cioè esatto Il concetto è Che qui adesso Noi vincoliamo E quindi da qui Questo Io sto facendo dei gesti Da questo punto in poi Torna il tempo Lo spazio Cioè torna il passato Il presente Il futuro Ma qui invece C'è la melma di schifo Che si crea Con la stagnazione Quindi i tempi Che si mischiano fra loro E non si capisce più un cazzo Nonostante ormai Questo punto sia in salute Perché Gianni si è vincolato Da questo punto qui Continua a essere attirato Al centro del contenitore Tutto il tempo Che avanza Perché è distorto Perché comunque L'oscurità esiste E quindi Frammenti Di passato Di un futuro Già dove il vincolo Comunque è stato effettuato Tornano dentro E perché esiste Questa forza Che attira i tempi In un unico grande Agglomerato di merda È l'oscurità Cioè è il punto Della stagnazione Che cosa stagna Il tempo Che vuol dire Vuol dire che invece Di andare avanti E avere oggi Domani e dopo domani Oggi domani e dopo domani Non sono separati Ma sono tutti insieme È la stagnazione È il fatto che Non ci sia una separazione Ma un'unione sbagliata Di cose che dovrebbero Rimanere separate Quindi anche da un punto Nel tempo Nel quale appunto Si è vincolato Continua a esserci Questa forza Che da quel punto Attira verso un mondo Merdoso Che purtroppo è quello Che visitiamo Tutto Oggi Ieri Domani Dopo domani E quindi ci troviamo qua A visitare Contemporaneamente Ieri e domani Di questa mappa È l'unica Spiegazione Che riesco a darmi È il fatto che Cioè non è stato creato Un backup magico Esatto Esatto Ma è semplicemente Che per come funziona Questo mondo Anche se tu vai avanti Crei un vincolo Cioè vincoli E quindi permetti A quel luogo Di non essere Ucciso dall'oscurità E non essere Consumato all'oscurità Comunque tornerà A esistere anche La versione Di quella mappa Lì oscura Non puoi evitarlo Perché c'è la stagnazione Perché quella Quel momento In cui non avevi Ancora vincolato Tornerà A seguirti Tornerà a essere visitabile Perché colerà Dentro l'ampolla Ok Questa è La spiegazione Che mi sto dando Perché siamo qua E tu pensa Che l'abbiamo fatta Prima delle descrizioni Di cui parlavo Ok Ok Vai È così per forza Ragazzi Noi stiamo visitando Un Purtroppo Un posto Che è Destinato a tornare Perché La fiamma Non è più così potente Da garantire Ovunque Il continuum Spazio temporale E se invece La fiamma fosse ancora potente Come un tempo Non ci sarebbe Questo posto Ma c'è Quindi L'era dell'uomo Cos'è in definitiva L'unione Di L'era L'era dell'uomo Passato Passato Presente Futuro Di questa era Sì È la minestra Di questa era È la minestra Di questa era Sotto però La scomparsa Del fuoco Che crea quindi Un altro equilibrio Del mondo Sotto il controllo Del Dark Lord Quindi Tecnicamente Il Dark Lord Potrebbe anche Tecnicamente Far scorrere il tempo Perché il tempo È luce Però a quel punto Ne crei uno diverso Tu sei in grado Di far qualunque cosa Crei un universo Completamente autonomo Hai ragione È un casino È un casino È che Secondo l'immagine Che ora ha in testa L'era dell'uomo È l'unione Di una serie Di elementi Ok Chiamiamoli Fisici Magici Scientifici Che il vincolo Del fuoco Non permette mai Cioè L'era dell'uomo È permettere In realtà Questa stagnazione Di fare il suo decorso Perché la stagnazione In realtà Avviene per il vincolo Della fiamma Corretto Se noi ci rendiamo conto Della stagnazione Perché esiste il vincolo La stagnazione È a causa Dell'accanimento Sì È Quindi in teoria Se lasciassimo le cose Andare Non vincolassimo più La stagnazione Arriverebbe a un punto Di climax Sì Dopo il quale Si creerebbe Questa famosa Era dell'uomo Sì Perché a quel punto La fiamma Si spegnerebbe E purtroppo La brutta notizia Di Dark Souls 3 Questa ricordatela Come frase Sì La brutta notizia Di Dark Souls 3 È che se ormai Anche tu facessi Spegnere il fuoco Il mondo è fottuto Eh Ci siamo d'accordo La cosa La cosa terribile È che qualunque cosa Accada a questo punto Salvo chissà quale Colpo di scena E non c'è L'uscita Nel senso È ben chiaro L'hanno violentato troppo Questo mondo Se vincoli Cioè Allora Una cosa importante Che poi Ha causato tanti Casini con Dark Souls 2 Che suggeriva questo È che in realtà Non è Che se tu vincoli Il fuoco Resetti Lothric Che va giù Dove era prima Eh no Il cazzo È il motivo Per il quale siamo qua Esatto Se tu vincoli Il fuoco Semplicemente Smette di spezzarsi Il terreno E di contorcersi Tutto In maniera distruttiva Ma non è che Si risolve No E' vero che L'immagine Di quel posto Fottuto Tornerà E sarà visitabile Di nuovo E quindi Se invece Lo fai spegnere La situazione Lì Peggiora Un punto Disastroso Fuor da ogni Limite E purtroppo Risulti Probabilmente Veramente Il conte Della cenere Cioè Diventi Sicuramente Importante In un universo Che è diventato Di tuo pugno Totale possesso E controllo Ma è il controllo Dello schifo Ok Sono D'accordo Con te Una parte Di me Però Da giocatore Blind Pensa che In realtà Se si lasciasse All'oscurità Fare il proprio Corso Nascerebbe Effettivamente Il nuovo Mondo Vi darò Un'immagine Stupida Ma per farvi Capire Che cosa Intendo dire Tranquillo Non ti sto parlando Da oniscente No 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 E che Il vincolo Del fuoco E' come Se fosse La stupida Cazzimma Di un tizio Che per fare Salva la carota Non permette Alla minestra Di venire Preparata No Cioè Questa minestra Che bolle E siamo pronti A mangiarla In tavola Ma poi Arriva Guine E fa No povera carota E che fai La fai sciogliere così No 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 La carota Deve essere salvata Ok però Per finire la minestra Serviva quella carota Intanto la minestra Continua a bollire E diventa bruciata Una merda No no Rimettiamola dentro Questa cazzo di carota E finiamo il lavoro Finiamo la minestra Vediamo che ne viene fuori Allora qualcuno la rimette dentro E qualcun altro No no Povera questa carota Ce la puoi E alla fine La minestra Diventa una merda Perché l'hanno fatta Bollire per diecimila anni Che è dove ci troviamo adesso C'è una cosa extra però C'è una cosa extra E questo non è Nulla che possiamo tagliare Dalla nostra prolissità Perché non è Non diventa prolissità Diventa completezza Ascoltami C'è un dettaglio Che Dark Souls 3 aggiunge Ed è molto importante Perché Miyazaki Quel gran figlio di puttana Come direbbero in Jurassic Park È riuscito A mettere A modo suo Ma dall'informazione Che ti danno la risposta Che cerchi Ok Da poco l'hai ottenuta Questa informazione Si chiama fiamma profanata La fiamma profanata Non brucia Non fa caldo Fredda Però fa luce Che cosa significa questo? Che è vero Fa tutto schifo L'oscurità diventa Il buio più totale Il Dark Lord È il re sul trono Di un mondo finito Che sia vincolato o meno Il punto è Che il Dark Lord È un essere eterno E onnipresente Cioè diventa Corretto Onnipresente Cioè l'ubiquità Non è più un problema Per lui Perché lui può diventare Qualunque cosa In qualunque momento In qualunque posto In qualunque area Del tempo Cioè è veramente forte Però Non ha il potere divino Della creazione Semplicemente può Giocare con i Lego Il problema è che Gioca con i Lego Ma gioca con i Lego All'interno di un mondo Che lo ha rimesso Per la prima volta E non è mai successo E non è mai successo Questo fino ad oggi In cima alla catena alimentare Perché l'essere umano È l'entità eterna Dell'oscurità Vero Sigillata dal segno Questo significa Per il quale continuo a pensare Che l'era dell'uomo Sia l'unica cosa Che deve accadere Quindi C'è tanta politica In questo Alla fine Gwyn Non è che amava Tanto il sole Lo era Perché era Il re del tutto Però Principalmente Non voleva Che gli umani Si soffiassero a casa E Questo non significa Però che nell'oscurità Più totale Il Dark Lord Possa Generare fonti di luce Non saranno la fiamma Non sarà la luce Divina Ma può Accendere il fuoco Capisci Cioè Può accendere una torcia Ecco Questo è importante Perché non è che l'era oscura È per forza un'era In cui non si vede niente Tutti si danno schiaffi Sulle chiappe Perché non si vedono No 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 Beh ma l'idea Di Iuria È più o meno quella Prendere la fiamma Farla diventare Un mezzo Del Dark Lord Per creare Il mondo Non è che l'era oscura Significa che non c'è il fuoco Ma significa che il fuoco È mezzo per l'era oscura Diventa uno strumento Non più una forza divina Ecco Non Ti dico giusto una cosa Qui stiamo parlando Qui stiamo strascendendo Però ti dico una cosa Così te la metti Proprio nel segno oscuro Te la metti lì Che fa calore L'idea di Iuria Dinanzi al fatto Che la fiamma è Dio Ok La fiamma non è Dio La fiamma è Un potere divino Giusto Sono d'accordo Ho sempre pensato Te l'ho sempre detto Ecco Se tu Dinanzi a quello che ti ho spiegato Della Era oscura Dai Dai al Dark Lord Se possibile Perché Fride Col cazzo Che c'è riuscita Però Se dai La possibilità Se può veramente succedere Che il Dark Lord Possa Prendere la fiamma per sé Quel che rimane Della fiamma per sé A quel punto Diventi Quello che ti ho spiegato Con il potere Della creazione Certo Quindi divento Il Demiurgo Esattamente Ecco Ecco Occhio Divento il Demiurgo Dell'era dell'uomo Potendo finalmente Ordinare la minestra Nel senso Prenderla ordinata Esatto Quindi proprio Anziché estrarne ingredienti Facendo finta Che quello possa essere Il nostro mondo E il nostro futuro Questo è quello Che penso Penso che Sembra quasi Che Dark Souls Sia la storia Davvero Della creazione Del mondo dell'uomo Ma qualcuno ha paura Di farlo Assolutamente Solo che ora è troppo tardi Perché ti dico Stavolta senza discorsi lunghi Se ora arriva l'era oscura Le profondità ti scopano Eh certo Perché non è più l'era oscura Oddio Che hai fatto? Che è successo? Che è successo? Ho aperto qualcosa Oh hai trovato Oh Ah vabbè Niente di che No vabbè Era No 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 In realtà è In realtà è un segreto Niente di che Niente di che Dice Saitonia Niente di che Stavo facendo il coglione Voi vediamo che raccoglie Vediamo se niente di che Ah ma perché è murata qui Esatto Ok Niente di che Raccoglie Eeeh Occhi guardiana del fuoco Ma Ma lei è una guardiana del fuoco Eeeh What the fuck Ok Solo che stavolta Agli occhi Solo che stavolta Agli occhi Giusto Un paio di occhi neri Si dice che appartengano Alla prima guardiana del fuoco E siano la luce Andata perduta Da tutte le guardiane Del fuoco successive Cioè Una volta che lei ha avuto Qualunque cosa Abbia avuto Nessun'altra Ha potuto vedere Gliel'hanno tolti Gliel'hanno tolti gli occhi Agli occhi alle altre Cioè proprio Per evitare Che sviluppasse Questa oscurità Negli occhi Probabilmente Forse hanno tolti gli occhi Guardiana E' successo qualcosa Non vi sentite in colpa Dai Sono delle merde Ma non si fa così La storia Ragazzi Vincolare è giusto Perché Tolta tutta quanta La merda Che vi abbiamo Nascosto fino ad oggi E che Il vostro È il contrario Vincolare è una cosa buona Sì Vincola anche tu Chiama l'899 1002 Esatto Esatto Boh Va bene Ok Qui non c'è l'orbecchino No ora Ora sei In pieno Esploro completo Sei stato bravo Puoi Curiosare Molto Diciamo Ferocemente Cosa può creare L'anima di Gunther Volevo vedere Se qui c'erano i rami Ma no Quindi Ennesima conferma Della Consecuzio Pazza Ragazzi Madonna quanta lore Oggi Che puntatone Esatto Esatto Essere provincolo In DS3 È tosta Sono d'accordo Nick Perins Ma io sono Antivincolo Since Dark Souls 1 È vero Before it was mainstream È vero è vero Before it was cool Esatto Before it was cool Che rumore figo che ha fatto Va bene Però aspetta C'è tutta la parte di sopra Esplora Esplora se vuoi Sì sì Certo che voglio Ci mancherebbe altro Ma che siete pazzi Certo Che esploro E non solo esploro Grazie al potere conferitomi dal maestro Esploro bene Let's go Antivincolo is the new antifascista Beh ragazzi Devo dire che è estremamente totalitaria La gestione Del vincolo Il regime è giusto Gloria al regime Se non la pensate come me Fottetevi Questo è un po' il concetto Quanto avrei goduto D'ammazzare patches Nel passato Gigante C'era già Visione di trono Firenze Un vero partigiano Esatto E bravi Guarda che curiosone Eh proprio Eh no Eh ma tanto L'abbiamo già fatto Ah già Mi ricordo Bisognava stare Tipo No 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 Più 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 perpendicolare Esatto così Ma con l'inquadratura più comoda Esatto Così? Cioè se vuoi divertire Non c'è niente eh Però se vuoi divertirti fallo Certo che voglio divertire Eh eccolo Eccolo No Però lo devo fare mentre corro Eh sì Dei farlo mentre corre Dei solo stare un po' più in alto Eccolo Dove vado No ragazzi Devo fare È più facile esatto Cliccare in Pokémon Mi ricordo che la prima volta Mi ricordo che la prima volta mi riuscì tipo subito Niente Mannaggia il cazzo Eh lo capisco Bisogna salire sull'albero E poi Girare all'indietta Eccolo qua È quello il punto in cui Poi però Più rincorsa Eh ma Ah più che rincorsa È Esatto È arrivare fino a quel punto Prima di saltare È quello che hai fatto poco fa Eccolo Ok 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 Esattamente Lo hai beccato Lo hai beccato Eh sì È quello È quello È quello Ci sei Ci sei Ci sei Eh è quello Esatto Esatto I ragazzi hanno scritto una cosa bellissima La prima volta ci sono riuscito il primo try Perché mi sono allenato nel passato Tutto torna Bomba Canon F Si è allenato qui E la prima volta infatti poi ci è riuscito Canon Assolutamente Canon Eccolo Eccolo Pazza che puntata della madonna Mamma mia Scusate le parolacce ragazzi Vabbè la madonna è un Vabbè sì no esatto È un'esclamazione Essere insomma Esatto è un paragone con qualcosa del divino Esatto Nuovi oggetti nascosti eh Cioè non apparete illusoria però a un certo punto Sì L'hai appena superata L'ho appena altrupassata Esatto esatto Sì 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 E niente Chaddo Quando cadi ma sei chad Chaddi Che chaddata Sono chaduto Va bene E niente Qui abbiamo finito tutto Però mi sa Sì non so quante anime avevi 65k Infatti le sto andando a prendere Sai dove sono vero? A piano terra No sono di sopra Cazzo Scusa se sono stato diretto ma È vero Non mi ro... Nooo No ragazzi 65k no 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 Devo ci addare Devo ci addare Beh diciamo che hai 300k da spendere poi come vuoi Te le passerò sicuramente Ah giù Ah giusto Giusto Eh sì 300k pazzi proprio Perché ho vinto una pazza scommessa Mamma mia Ben sai che Vorrò provare a recuperare anche queste Devi Cioè sono lì Ma Posso arrivarci in maniera più umana rispetto a sta roba o no? No mo so cazzi tua Come si potrebbe dire Ok easy Sì dai vai Let's go Prendile Sono tue Edz Ragazzi Edz Mamma mia L'edzaggine proprio Non finisce mai Troppo edz ragazzi E siccome sono Chad 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 Mamma mia Che Chadata Sono caduto ma ho corretto i miei errori E adesso Poeticamente Userei Il frammento Della spada a spirale Se siete d'accordo Let's go Bellissimo Vai ecco Fidati Fallo Così capisci perfettamente tutto quello che abbiamo O meglio Esponi visivamente tutto quello che abbiamo detto Usi Il frammento Della Boom E arrivi nel presente Nello stesso posto Cazzo Da film Perfetto Perché Perfetto Anche quando hanno finito il loro scopo Sono ancora vincolati per sempre Esattamente Let's go Bellissimo Si gode Altro livellino Poi mi darei 300k E adesso Finalmente Torniamo ai draghi Beh guarda Se ti metti a Speculare A leggere le descrizioni Sono le 8 Ah beh Hai ragione Holy fuck Beh però Che cosa ci manca Di descrizioni Tutto quello che puoi creare Con l'arima di Gundyr Oh fuck Vero 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 Ragazzi mi sono talmente Tanto perso I miei pensieri E oltretutto Hai appena raccolto un certo oggetto Che forse dovresti far vedere a qualcuno Aspetta aspetta C'era lui che soffriva? Beh oddio Potrei darle gli occhi Ora che ci penso Beh tu parla L'Udlet intanto Ah Quindi lui Mi commenta gli occhi Dal tuo punto di vista Coglione Allora è lui davvero Che ha vincolato Mi sa che è lui davvero Che ha vincolato Eh si Ha visto gli occhi Ha capito cosa sarebbe successo Si è andato a vincolare E quindi è qui Perché è spaventato Da quella visione Vedete Un mondo privo di fuoco Come una sterile Piana d'oscurità Un luogo nato Dal tradimento Per questo Vogli diventare signore Esattamente Però allora Perché c'era Il suo trono Già all'epoca Per tutta La chiacchiera Che abbiamo fatto Praticamente Loro Facevano i troni Anche per Allora Il trono È stato fatto Probabilmente Per la missione Del champion of Ash Però Avevi i cavalieri neri E i guardiani Della cripta Quel posto Vuole essere Una cosa Io l'avrei fatta Più diversa Autorialmente Però ti vuol suggerire Che c'è tutto Di tutti Non è Si 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 E che mi aspettavo Di non trovare Il trono di Ludlet Perché dovrebbe essere Aggiunto dopo Potremmo ipotizzare Che allora i troni Erano in quel numero Perché serviva Quel numero di tizioni Per effettuare Un vincolo Che avesse Un'effettiva utilità Però in teoria Se tu vai a leggere Il nome C'è scritto già Ludlet Capito Esatto Ma Ludlet Non ha ancora Vincolato In quel momento Allora Giusto Cioè Perdonatevi Se cerco il pelo Dell'uovo No 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 È giusto Non ha Non ha ancora Vincolato In quel momento Ma che ci sia Il trono di Lothric Ragazzi va bene Non è quello Il punto È quello di Ludlet Che non mi torna Il fatto è questo I troni I troni Sono Non Nell'epoca in cui Trovi gli occhi Però li hanno messi Nella mappa Per la stagnazione Sì Il fatto che siano identici Non mi piace Ma la ragione è quella Non ci sono Hai ragione tu Non è Non esiste Il trono di Ludlet In quel momento Ma Lui L'autore Il level designer Ti ha messo L'anello del calabrone Cavalieri neri Guardiani della cripta La lama del caos Per farti capire Che ci sono Epoche Culture Mondi diversi Tutti accatastati Nello stesso posto Sempre però Legati non tanto Allo spazio Quanto al tempo È così Non c'è Il copia e incolla Non è bellissimo Però non c'è Ecco Allora Bravissimo Lì volevo arrivare Secondo me Se vogliamo Dargli una spiegazione È che hanno copia e incollato La mappa Detto questo Sì no ma infatti È quello Nel senso L'hanno fatto con leggerezza Nel senso che non hanno pensato Al paradosso di Ludlet Se proprio però Volessimo dargli Una spiegazione Il punto è che la stagnazione Nel colare Dentro l'ampolla Di quella zona Ormai vincolata Immagini del futuro Del presente Del passato Si sono mischiate Quindi ai troni Del dopo Esatto Finiti dentro Il santuario del prima Il santuario del prima È l'unica spiegazione È proprio così Tanto che tu Curioso del dialogo Hai saltato il primo Sai Hai saltato un dialogo Di Ludlet Ah certo E te lo leggo io In giapponese Perdonami Perdonami Sono qui per questo Allora Gli altri li hai sentiti Il primo dice Oh L'hai trovata E in lei Hai trovato gli Occhi scuri Giusto? Che irritante nostalgia Ai tempi Non potremmo fare Altro che nasconderli È passato così Tanto tempo Questi daranno Un po' di luce La guardiana del fuoco E le mostreranno Qualcosa Quindi lui Ha aiutato A nasconderli Cioè E poi ha vincolato Perché ha capito Che la situazione Era drammatica Che schifo Che mi fai Mamma mia Sì sì Li hai nascosti lui Insieme Cioè Li ha aiutato a nasconderli E poi si è andato a vincolare Provare Bravo Bravo Ludlet Guarda come siamo felici ora Guarda È un posto incredibile Quello che avete creato Siamo tutti contenti Grazie di averci dato Altri centinaia di anni Nei quali possiamo solo Prenderci a pugni Nelle palle A vicenda Esatto Grazie Ludlet Bravo Grazie Tu e le tue gambette Spero di farti provare un po' Di quello che provo io Ogni volta che ti ammazzo Coglione E forse Forse Adesso non mi ricordo Il trigger esatto in questo È un po' Un po' segretino pazzo Questo Prova a ricaricare C'è un dialogo extra di Ludlet Quando parla degli occhi Ma non mi ricordo Se devi prima Anche perché gli devo dare l'anima Di Gundy Eh sì Esatto Non mi ricordo se arriva qui O poco dopo Quando parli con la guardiana Non posso Devo per forza uscire No 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 Puoi tornare Esatto Puoi fare questo Schifoso Schifoso Allora Faccio sempre Prima Ludlet Sì avvicinati a lui Vediamo se c'è il dialogo Io pensavo che stesse Semplicemente soffrendo No vedi È lo stesso Andiamo un po' No è quello di quando soffre Aspetta eh Vediamo se è lo stesso Ok sì Dovrebbe essere lo stesso Credo Sì 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 Ok 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 Io Quello che avevo schippato Pensavo fosse questo Capito No 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 Esatto Vabbè Allora Leggiamo un attimo Gundirino Eh che qua c'è ciccettina Gundirino Gundirino Eccolo qua Alabarda donata a Gundir Il campione All'inizio della sua missione Questa vecchia alabarda di ferro È perfetta per sfinire nemici E si dice che non perda mai il filo Sembra che il campione Fosse destinato a servire Fino alla fine dei tempi Servire chi? Allora Ecco Il culto del vincolo Qui comincia a esserci un po' di Quella cosa sporca Che stai per scoprire piano piano In giapponese Ok Dice In maniera un pochino più esplicita Si dice che l'antica alabarda in Giza È cella Per la sua resistenza E che non si consumerà mai La durata della sua missione Deve essere quindi evidentemente Stata decisa Fin dall'inizio Ovvero A un certo punto Noi ti ficcheremo Una bella lancia nel culo E tu dovrai continuare A fare la giudice dopo Mi sa che stai andando Spot on Ma non è l'unica cosa Che puoi creare Vai Anzi Quest'altra cosa che puoi trovare Potrebbe intrigarti farla Catena del prigioniero Era quella del sexo Di Dark Souls 2 Eh Si Si Vero Qui viene un po' più Potenziata a livello di lore Parte della catena Utilizzata per intrappolare Gundyr Aumenta vigore È un anello immagino Si Cioè conta come anello Aumenta vigore Tempra e vitalità Ma fa subire danni extra Bellissima La mettiamo assolutamente Tanto Chad veri Non prendono danni I prigionieri Mettono tutto in gioco Per una semplice credenza Questa tendenza È particolarmente evidente Nei più grandi campioni Ecco Questa Fermati È Scritta Stavolta In maniera proprio sbagliata Ok Perché Manca l'accezione Sardonica Chiamiamola sardonica La frase finale dice Prigioniero è colui che accetta ogni cosa Al prezzo della sua libertà Ancor di più Se questo è il destino dell'eroe Non credi? Ok È completamente diversa E in realtà è un'altra referenza A quello che abbiamo già detto Esatto sì Esattamente Quindi Gundir Grande in realtà Seguace Del culto del vincolo A tal punto Da diventare Il fantoccio Boss Allora Di nome di fatto Fermati Perché qui Sei proprio nel posto giusto Al momento giusto Ma La nostra cara Ancella Adesso che è sconfitto Il boss Potrebbe vendere Qualche pezzo Del suo equipaggiamento Vai a leggere va Aspetta Posso comprarlo questo? Devi È bellissimo Godopoli No Coglione Allora Aspetta Prima lei Prima guardiana Oh Faccio Lei No no Facciamo una cosa alla volta Così più epico Ok allora Qua Niente La roba di Gran Cappello La vendeva già La roba di Xanthus pure E la roba di Gundir No però Parte dell'armatura Di Gundir Il campione Stavo per dirti Che mi sembrava Vendrick Quest'elmo È stato ispirato A quello di un antico re È ispirato A Vendrick No Allora È un antico re generico Secondo te Allora A livello A livello Di lore È Probabilmente Ispirato Al primo re di Lothric Ah ok Però Però a livello Autoriale Assomiglia 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 tantissimo La prima fiamma Potesse essere Vincolato Da me Qui avevo già Predetto Questa descrizione Praticamente un'ora fa Esatto Bello il set Bello il set tra l'altro Però credo sia full strength E quindi Minchia Non fa per me C'è altro? Non mi sembra Hai letto l'armatura? Ah è diversa? Non mi ricordo Mi sembrava uguale È uguale? È che proprio rimane ferma Vedi la descrizione di sotto Perfetto Allora Ora possiamo parlarne liberamente Quindi Se la sua missione Deve essere stata decisa Fin dall'inizio È quello che Lui È stato un po' Ingannato Certo Perché sapevano che io L'avrei ucciso O comunque che qualcuno L'avrebbe ucciso La cosa sporca La cosa veramente schifosa Quello che Poi si potrebbe approfondire Ma era più estesa Ma che va bene anche In modo sintetico È risposta così oggi È che Lothric Come regno Si è reso conto Che Le situazioni Da quel momento in poi Non sarebbero state così Positive Facili da realizzare Come vincoli Come un tempo Ed è dedicando Il loro intero regno La loro intera cultura Su quel culto Quando hanno trovato Gundir Lo hanno Usato Nel modo più terribile Ingannandolo Quasi portandolo Verso un vincolo Che sapevano Non avrebbe potuto fare Perché sapevano Che non avrebbero Che non avrebbe potuto farlo Perché lo avrebbero ucciso prima Cioè L'avrei ucciso io Prima Esatto Lo hanno ingannato Per farlo diventare Uno strumento utile Un simbolo iconico Per i prossimi vincolatori Cioè lo hanno Reso Un Cristo Che però Non era spontaneo No Anche perché lui era convinto Probabilmente di fare tutt'altro Esatto Mentre nella religione cristiana Abbiamo Gesù Cristo Che si sacrifica per l'uomo Loro lo hanno sacrificato Per l'uomo Sì 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 Guarda Descrive pienamente Il culto del vincolo Di merda Esatto Capito Fate i martiri Ma deciniamo noi Quando siete martiri Soprattutto A vostra insaputa 899 200 Vincola now Yeah Allora Ora al momento Vado Le avevamo già dato l'anima Vero? Sì Partita la musica È cambiata l'host È un ending questa Bravissimo Ma qualunque cosa tu faccia Non ti rovinerà la quest Gioca F Goditela Tutte le risposte Hanno ovviamente Dialoghi unici È tutto nelle tue mani Non lo so Non desidero Un mondo Primo di fuoco Yuria Mi ha assolutamente Convinto Voglio un mondo Nel quale Io sono il fuoco Eh 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 E allora la tua risposta Non è la prima Un mondo privo di fuoco Sarebbe Fermarsi a Firenze Vero Hai ragione F È Firenze È molto di più F F Ma Ma Monito Per essere guidati In un certo senso Nonostante si tratti Di un libro che si chiama Anima Oscura F Identifica in quel libro La fiamma che ha in mano È la luce che guida i suoi passi Verso il futuro Perché contiene in sé Tutto ciò di Cui ha bisogno Per comprendere dove andare Senza avere risposte Attraverso il continuo Compararsi con il passato Che ora lui sa avere un significato F È riuscito a creare il suo futuro Ariandel è stato l'emblema massimo E primo grande momento Per F Di Cieco affidamento Alle pagine del libro F Ha dovuto spogliarsi Della Sua Attitude Da assassino Per incarnare Firenze Usare uno scudo E superare i corvidi Cionnostante appunto F Non è un emulatore È qualcosa di più F Assorbe L'esperienza Di Firenze Per comprendere L'importanza Di sconfiggere un nemico Difendendosi E soprattutto Affrontandolo In una Arena Congeniale Al combattimento Assorbe il potere Di Cassandro Comprendendo Che è necessario Colpire i nemici A distanza Non averne troppi Attirati In modo tale Che non ci accerchino E perché no Forse è leggendo L'anima oscura Che comprende Che comprende Come uccidere Wolnir Perché ha ucciso Cassandro E lui potrebbe Averlo letto Questa però È la storia di F Quindi Tutta questa esperienza Serve per andare oltre E questo oltre Lo ha deciso lui Durante L'interazione Con tantissimi Altri personaggi La storia di Yuria Ha colpito F Ancor di più Di quanto Abbia colpito Sidonia E F rimane un personaggio Molto egoista F rimane un personaggio Molto egocentrico E Benché non sappia Se davvero Quello che ha detto Yuria È corretto Lo intriga Lo intriga Perché Qualunque mondo Ci sia Una volta Strappata la fiamma Dalla culla È un mondo Che vede lui Come dio Firenze Per esempio Non era assolutamente Interessato A essere un dio Firenze Voleva semplicemente Imporre Con rabbia L'idea Che vincolare F F F F Vuole essere Un dio Giusto Che sta Nel giusto E ovviamente Questo è impossibile Perché Le opinioni Sono soggettive Quindi qualcuno Un giorno dirà Che F È un dio Sbagliato Tanto quanto Oggi F Lo dice Di Gwyn Rileggendo Le prime pagine Dell'anima oscura Però oggi Ovviamente Dal suo punto di vista F Fa la scelta giusta Quindi Gli occhi Non sono che L'ennesima pagina Dell'anima oscura Mostrano un futuro Possibile O un passato Già accaduto Non possono essere Accolti Come finali Perché Sono una storia Già scritta E invece F deve ancora Scrivere la sua Quindi Rifiuto Parla Ah ok Ah ok Perfetto Dice Va bene Va bene Posso dire Tranquillamente Che F In questo momento Pensa solamente A una cosa E cioè Che se questo Dovrebbe portarlo A assorbire La possibilità Di livellare Lui sarebbe Molto contento È la prima cosa Che pensa Sentendo la guardiana Che chiede Di essere uccisa Ragiono come se fossi In blind Io l'ammazzo Anche se ho visto Che è resuscita Spero che stavolta Non succeda Ho effettivamente Droppato gli occhi Sì E la host Torna Quella originale Il nome Di quella Che stavi sentendo È Secret Betrayal Perché potrei Tradire il mondo Sì esatto Da champion of ash Insieme alla guardiana Che obbedisce Al campione Indipendentemente Dal suo desiderio Tu Tradiresti il mondo E È questa Sono d'accordo Sono d'accordo Sarebbe un tradimento Sì E la risposta La chicca E il finale Dell'episodio Potremmo chiamarlo È farti fare Uno più Su tutto quello Che è stato discusso Fino ad ora Nonostante lei Effettivamente Torni Parla 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 Vedi Lei perde Completamente La memoria Di quell'avere Certo Questa cosa È già successa Esatto Allora Il motivo Per il quale Quindi abbiamo La storia Di Gundir Che è Sporca 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 Mentre Il motivo Il motivo Per il quale Il culto Del vincolo Ha cominciato A Accecare Le guardiane È che Le guardiane Sono Come detto In Dark Souls 1 L'incarnazione Del falò E in quanto Incarnazione Del falò Una volta Connesse Alla fiamma In un periodo Come questo In cui la stagnazione Comincia a trascendere Il normale tempo Distorto Di un tempo La prima guardiana Del fuoco Di Lothric Ha visto La fine del fuoco Chiaro L'ha letteralmente Visto Cioè ha visto Veramente Non un sogno Per evitare Per evitare Che le altre guardiane Vivessero con questa Consapevolezza E forse Non volessero A quel punto Neanche più Contribuire Alla causa Le caccavano gli occhi Ne fossero In quanto esseri umani Sedotte Sì sedotte Sì proprio sedotte Capito Capito Comunque Ragazzi Rispondo a mal A chi che scrive Ma perché Se Ludlet Dice Betrayal Gli dai del coglione Ma se lo dice La filekeeper Fai sono d'accordo Mi sembra La palisciano Ma ve lo spiego Sì sì Sono due cose diverse Perché F vuole diventare Dio del nuovo mondo Ludlet ha pensato Che questa fosse la risposta Alla fine del mondo Questa è un'altra volta Alla fine del mondo Mi sembra evidente Che per F Il tradimento Per il mondo E verso il mondo Sia non renderlo Dio di questo mondo F si sentirebbe Di tradire questo mondo Non divenendone il Dio Ludlet invece È un coglione Perché pensa Che ancora La fiamma Sia il Dio del mondo E invece Si sbaglia Se io Le do gli occhi Ma non la uccido Succede qualcosa Posso ottenere La host nuova Allora Tu hai fatto Il tuo roleplay Adesso Per gusto Fai Il volta gabbana Ok Solo perché Me l'hai chiesto tu Ma sono d'accordo Fai volta gabbana Ok Dalle gli occhi Dille che vuoi distruggere Il mondo per sempre E Non finisce il gioco No Ok Avevo paura Finisse proprio il gioco Forte No no Libero Ok Desidero un mondo Prevo di fuoco Non canon Non canon No Ah Quindi lei decide Di servirmi Anche in questo Tradimento Si 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 Che peso Aspetta Aspetta Uccidimi Immagino Eh infatti Si la uccido Sì ma se la uccidi Eh beh Perdi la host Ah Eh però aspetta Allora Le rido gli occhi Non prendo nessuna scelta Va bene Va bene Va bene Perché se no Se prendo questa scelta In teoria E poi Arrivo al finale È allineato Verso questa scelta Ho fatto questa No ti avrei messo in attenzione No ti avrei avvisato Ah non cambia niente Cioè quindi questa cosa è solo dialoghi No Però al finale Avrai una scelta in più Che altrimenti non avresti mai avuto Ok allora vuoi che le dia Il nuovo gli occhi No 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 Non c'è problema Dalle gli occhi senza parlarle Non succede nulla Ok perfetto Ecco perfetto Perfetto È quello che volevo fare Eccoci qua Secret betrayal Bellissimo Porca miseria Che diretta Ragazzi sono state tre ore Veramente Tre ore e venti Mamma mia Sì Veramente intense Che bella diretta E che bel Che bel progresso Proprio per tutti Sì Per tutti quanti i personaggi Che insomma Si sono evoluti Nel corso della diretta F Ludlet La guardiana del fuoco I suoi occhi Le pippe mentali Sulla stagnazione Sulla minestra E l'ampolla Chissà quanto manca Al finale Eh chissà Ora oltre Quelle due viverne Cosa si nasconde Sulla cima Del castello di Lothric Tanta roba I 300k Me li darà P La prossima volta Ragazzi Certo Me li godo Che è venerdì Mi raccomando Venerdì Stessa spiaggia Stesso mare Di venerdì Mamma mia Che godo E ci mettiamo anche L'anello Me lo ricorderete Perfetto Anche l'anello Del sexo Let's go Ragazzi Grazie mille Per questa splendida Diretta Sì Te siete fantastici E Grazie maestro Per la guida Che mi fornisci Ogni volta Meraviglioso Che verrà ricambiata Mercoledì Esatto E è giusto Mercoledì Ritornerà Invece La Blind Run Invertita E quindi La Veteran Invertita E Ci lasciamo Allora a questo punto Con questi finali Che ormai si possono Anche intersecare Oggi è toccato a me È vero Ma mercoledì Tocca a te Con la differenza Che siamo un po' In un dominio Bloodborne Nel senso che Mercoledì Ci darai la tua Interpretazione Di uno dei più grandi Misteri Del mondo poker Cavolo Non ne so niente Ok Fichissimo Deciderai tu So solo che Devi prenderti Il tuo tempo Non pensare che La prossima diretta Sia una diretta breve Certo Dipende da te ovviamente E ci dirai Cosa ne pensi D'accordo Bellissimo Can't wait Bella lì A presto Allora Ti rediamo Scegli tu Venerdì abbiamo Diego Qui adesso È domingo Prendo il cellulare Perché ho il browser In un altro schermo Quindi faccio un po' Di scouting Guarda Io ho tre canali consigliati Visto anche quello che abbiamo parlato Discusso in passato C'è Cristina Scabbia Che sta streamando Alla grande Andiamo da Cristina Come Cristina Scabbia Tutto attaccato Sì Ok Ragazzi Grazie mille Grazie maestro A presto A presto Ciao Ciao Ragazzi Cioè Live perfetta Live Assoluta Mamma Mamma mia Mamma mia Martedì salta Purtroppo È fatto È stata una scelta Presa per non confondere Chi non segue Tutti i social Ragazzi Sì ma Sì sì L'armatura dei ninja Non è esattamente Però sì sì No Abbiamo Abbiamo L'oggetto di cui parlavo prima Era l'armatura di Gundyr Che suggerisce Che è stato tradito Che è stato ingannato E reso golem Appositamente Non per incidente Vabbè sì Carla Salinos Carla è perfetta Visto che non ha fatto Nessun collegamento Come sospettavamo Per quella cosina Carla è uno strumento Che può aiutarlo A fare un percorso Piano piano Come mai evochi Sempre le stesse persone Io corro in tondo E spammo Non evoco Le stesse persone Io i suoi Anzi a volte Mi fermo Per vedere se li ho già letti E non li evoco L'Udlet È un personaggio positivo Ovviamente Certo Per il vincolo È un personaggio positivo Lui ha salvato il mondo L'Udlet ha salvato il mondo Eh We'll see Ragazzi no Sto ricevendo mille domande Non è un Q&A Non posso Non è un extra Ci sarà un ultimo extra E lì faremo Chiacchiere assai Quindi Signori L'Udlet è stato esiliato Per i suoi esperimenti Con L'artefatto Di trasfusione delle anime A presto Fellow one dead O meglio Fellow one kindles Grazie di cuore a tutti ragazzi Il Ah c'è una C'è una C'è una domanda Lo sapete che in queste live I reward Non sono gestibili Per ovvie ragioni No Cinque libri preferiti Non posso rispondere adesso Ti ridò i punti È più Troppo lunga Talk show Talk show Talk show Ciao Mike Sono il proprietario del PG Felicia Falicia Di Londra Questi giorni per la tua assenza Ho voluto riguardare alcuni tuoi contenuti Uno dei quali mi ha portato molti ricordi Ovvero l'anima della scoperta Su Dark Souls 3 In particolar modo Il PvP Sarebbe possibile ripetere questa cosa? Non è quello che facciamo all'inizio di ogni live Sentirete che complimentavi e commentavi le tue mosse Ah no Mentre interagivi con i futuri spettatori è stato molto bello Sì allora ti rispondo Lo rifaremo 100% In Elden Ring Nell'anima della scoperta 7 plus Promesso Promesso Ciao ragazzi Grazie del supporto Sono felice Che appreziate Il lavoro fatto qui Sono molto entusiasta Degli risultati che stiamo ottenendo È stata una bella live E dimostra tanto Secondo me A presto Fight Ciao 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 Grazie.